La mia storia con la Ferrari Prefazione di Valerio Stradi Caro Mauro, l'8 di luglio del 1988, Enzo Ferrari fece una rapida visita a Maranello. Incontrò solo tre persone. Era stato assente dall'ufficio per oltre un mese per malattia. Quando lo rividi gli chiesi, Comendatore, come sta? Lui mi rispose in dialetto modenese, Come vuoi chi stia? Sto come tre persone sedute su una sedia. Andam come tri in Ascarana. Perché ti ricordo questo? È un modo di dire tipico modenese e ve ne sono tanti altri. Ad esempio, a Ghera Quatergat, c'erano quattro gatti, per dire che c'erano in pochi. Quando all'inizio degli anni 80 Ferrari mi affidò i Ferrari Club, che nascevano come funghi in Italia e all'estero, organizzammo con loro i primi raduni di vetture del cavallino. Ricordo Livorno, Conegliano, Fermo, Desenzano, Maranello, Venturina, Orvieto, Isola d'Elba e tanti altri. In queste manifestazioni incontrai anch'io i miei Quatergat. I Quatergat sempre presenti erano Tino Zanelli di Desenzano, Armando Gilardi di Olginate, Beppe Cassani di Santa Croce sull'Arno, Rino Colombo di Monza, Alessandro Biglia di Novara, e poi c'era un giovane cliente di Varese, un ragazzino, con i capelli biondi e riccioluti, che mi ricordava tanto Gesù Bambino. Quello era Mauro Raccanello. In quel periodo i raduni Ferrari erano un successo se si raggiungevano le venti vetture, però molto spesso le Ferrari erano solo cinque o sei. I quattro gatti erano sempre presenti. Quando poi esisteva qualche problema, telefonavo e Mauro e gli altri arrivavano puntualmente sempre. Ricordo con nostalgia quel bellissimo periodo, le simpatiche persone che ho incontrato e che non ho mai dimenticato. Mauro poi aveva una cosa che gli altri non avevano. Il suo grande amore per la Ferrari gli aveva consentito di far parlare la sua Ferrari. La sua macchina era una grande attrazione per tutti. La gente si accalcava attorno alla Ferrari di Mauro per ascoltare una bellissima storia, quella di Enzo Ferrari e del cavallino rampante. Quando Ferrari mi chiese quattro nominativi di appassionati clienti da inserire nella direzione del Costituendo Ferrari Club Italia, riservato solo ai possessori di vetture Ferrari, mi ricordai dei quattro gatti, Zanelli, Gilardi, Cassani e Mauro Raccanello. La settimana scorsa o trascorso tre giorni in Abruzzo partecipando a un bellissimo raduno di vetture Ferrari, erano oltre 150 le Ferrari presenti. Nell'ammirare sulle strade d'Abruzzo quel lunghissimo serpentone rosso, ho pensato a voi, ai miei indimenticabili Quattergat. Sì, perché voi siete stati i primi, i pionieri di queste manifestazioni e potevate, come me, essere orgogliosi nel vedere come aveva germogliato il seme da voi seminato tanti anni fa. Grazie, caro Mauro del Buon Ricordo, dal tuo Valerio. Introduzione di Marco Franzelli Negli ultimi anni della sua lunga vita, Enzo Ferrari ripeteva una frase che è diventata famosa. A chi gli chiedeva come avrebbe voluto essere ricordato, rispondeva, come uno che ha sognato di essere Ferrari. In quelle parole, che avevano la forza dell'epigramma, era raccolto tutto il senso di un'esistenza inimitabile, quello di essere riuscito a dare realtà e concretezza a un sogno, cosa dalla quale sono capaci di solito soltanto pochi uomini eletti. Per la maggioranza, purtroppo, i sogni restano tali. Talvolta sono delle circostanze obiettive che ti impediscono di volare alto. Molto più spesso, invece, la colpa è soltanto dentro noi, nella nostra pigrizia, nella nostra scarsa voglia di osare, mettendoci in gioco. Non voglio fare paragoni con Ferrari, che suonerebbero esagerati e inopportuni, ma Mauro Raccanello è tra quanti sono stati capaci di raggiungere gli obiettivi che, di sicuro, erano nella sua fantasia di ragazzo. Lo ha fatto con sacrificio, caparbietà, dedizione al lavoro e, soprattutto, con tanta, trascinante passione. Proprio con la passione, ha saputo superare, nella sua attività, ostacoli che immagino alti come grattacieli. Eppure ce l'ha fatta e adesso fa parte, con legittimo orgoglio, di quel grande universo che ruota proprio attorno alla Ferrari. Quando ci siamo conosciuti a Stresa in occasione della festa annuale diventata ormai una tradizione, Mauro mi ha subito trasmesso il suo entusiasmo e l'idea di raccontare la sua esperienza in un libro mi è sembrata interessante. Un libro scritto non per celebrarsi, ma io credo per mettere a disposizione degli altri, al di là degli aneddoti e dei fatti curiosi che rievoca, qualcosa che sia d'aiuto per chi intende percorrere i suoi stessi passi. Perché la sua è un'altra piccola tessera nel puzzle dell'originalità, del talento, dell'imprenditorialità che caratterizza il nostro paese e lo portano all'avanguardia. Da ferrarista appassionato e da giornalista che prova i brividi ogni volta che vede correre le auto con il cavallino rampante, non posso che salutare Mauro Raccanello con un'altra frase celebre di Enzo Ferrari, quella che diceva che la vittoria più bella è quella che si deve ancora conquistare. Dunque, caro Mauro, il meglio per tutti noi deve arrivare. Basta saperlo cogliere. Marco Franzelli Gli inizi Se avessi pensato Questa è la mia storia. Non riesco ancora a crederci che sto scrivendo un libro sulla mia grande e vera passione per la casa automobilistica di Maranello, la Ferrari. Ricordo la mia vita da ragazzo di paese, semplice e molto modesta. Mia madre faceva la parrucchiera e mio padre il camionista. Non potendo seguire adeguatamente me e mio fratello, ci misero in collegio affinché potessimo formarci una discreta cultura ed una corretta educazione. Un giorno, nell'ora di ricreazione, ho sentito uno strano rombo. Sono corso vicino al cancello e tra le piccole fessure ho intravisto un'auto di colore blu. Era parcheggiata nei pressi dell'entrata del nostro collegio. bellissima e affascinante. L'ho rimirata in tutta la sua forma e per molto tempo. Le sue curve erano deliziose e perfette. Finalmente, dopo una lunga attesa, ecco arrivare il proprietario che vidi salire, accendere il poderoso motore e sparire in un attimo. L'emozione che quel motore con il suo rombo mi trasmetteva era davvero incredibile e molto intensa. Ritornai dai miei compagni e chiesi subito al mio assistente di che auto si trattasse, spiegandogli quello che avevo visto e sentito. Egli mi rispose sorridendo «Caspita, che udito che hai! È un Ferrarino e si chiama Dino 246 GT ed appartiene a un signore di Milano». Dato che nei nostri paesi non era facile vedere auto di tale importanza, questo è stato il mio primo vero incontro con una Ferrari, incontro che, ancora senza saperlo, avrebbe incisivamente condizionato tutte le mie future scelte di vita. Il pensiero di quella macchina mi portava a giurare a me stesso che un giorno, anch'io, avrei posseduto una vera Ferrari. Pensando al mio futuro non potevo minimamente immaginare cosa avrei fatto. Di sicuro non avevo nulla, solo un carattere forte, determinato e tanta voglia di arrivare presto al mio sogno. A questo punto risulta necessario rammentare qualche episodio relativo alla mia giovinezza al fine di comprendere quanto, date le mie umili origini, non fosse per me così semplice avvicinarmi al sogno di possedere una Ferrari. La mia vita, senza ostentare un ambiguo pietismo, si era formata nell'alveo di una modestia e di una semplicità profonda, caratteristica che del resto accumunava me e tanti miei altri compagni di scuola e di collegio. Rammento con grande piacere alcuni particolari di quel periodo della mia vita significativi e indimenticabili. Avendo a disposizione pochi cambi di vestiario, mentre tutti dormivano io andavo in bagno e facevo il bucato della mia maglieria intima, lo stendevo sul calorifero della camerata e, nella speranza che asciugasse per la mattina, cercavo sempre di svegliarmi prima degli altri affinché non si accorgessero di nulla. Lo ritiravo, piegavo e riponevo il tutto nel mio armadietto senza che nessuno sapesse mai niente. Cosa impensabile per altri, ma per me normale, era quella di sistemare le suole delle scarpe quando erano bucate, inserendo dei pezzi di cartone ricoperti con parti di sacchetti di plastica al fine di non far passare l'acqua e non rovinare così quei pochi calzini che avevo a disposizione. Oggi, per noi e per i nostri figli, è fatto scontato avere la possibilità di acquistare e bere una bibita, mentre a quei tempi in collegio dovevamo accontentarci alla domenica di bere una mestolata, sì, la servivano con un mestolino strano a misura di bicchiere, di acqua colorata e zuccherata. Non vi nascondo la mia emozione nel ripensare e nel narrare questi particolari della mia vita. Ricordo con tanto affetto Claudio Mantecca di Legnano, mio compagno di banco e di camerata, a me legato da così grande affetto al punto di inventare un gioco appositamente per darmi la possibilità di poter bere ogni tanto qualche bottiglietta di Pepsi Cola che lui aveva l'opportunità di acquistare. In pratica il gioco consisteva nell'indovinare quale fosse la città di imbottigliamento e Claudio, attraverso segni tra di noi convenuti, mi favoriva dandomi così la possibilità di aggiudicarmi la posta in palio. Grazie Claudio, nonostante siano passati diversi anni non dimentico questi semplici ma spontaneamente intensi gesti di simpatia nei miei confronti. Un altro amico e compagno di camerata gentile, educato e generoso è stato Fabio Serpi di Besnate che alla domenica sera rientro in collegio arrivava con ogni genere di dolciumi e biscotti che puntualmente per amicizia e simpatia divideva con me che invece non possedevo nulla. Un grosso grazie anche a te Fabio. In collegio la vita era piuttosto dura e sentivo la mancanza di mia madre Emma soprannominata Bruna a cui volevo e voglio un gran bene. La sua lontananza mi è pesata molto come il calore della mia modestissima casa. Rammento ancora il pavimento della cucina fatto di mattoni e che per accedere ai servizi igienici bisognava scendere in cortile dove per lavarsi c'era solo a disposizione un grosso e consumato catino azzurro. Delle comodità neanche l'ombra però nonostante tutto era la mia casa per cui nei momenti di solitudine e sofferenza questi stati d'animo spiacevoli erano accentuati dalla mancanza proprio di queste semplici cose. In collegio tutti mi volevano bene. Inoltre godevo della stima e della fiducia del rettore Don Vito Viti il quale alla sera mi aveva assegnato il compito di calcolare l'incasso del bar botteghino dove i pochi fortunati potevano spendere qualche soldo per comprarsi gelati caramelle e bibite. Oltre all'affetto di mio fratello Fiori godevo fortunatamente anche della simpatia degli amici. Ricordo in particolare un assistente di nome Vincenzo Ruocco che mi aveva dimostrato una simpatia fraterna e con il quale mi ero confidato dichiarandomi appassionato della musica e del canto. A lui avevo personalmente raccontato che a casa mi divertivo a suonare con i fusti di dash vuoti e i coperchi delle pentole rotte improvvisando una mini batteria. La mia passione era risultata tale ai suoi occhi che decise di insegnarmi a suonare la sua batteria vera nelle ore di ricreazione impostandomi dove necessario anche dal punto di vista vocale per poi farmi cantare gli assoli alla Santa Messa Domenicale in chiesa. Vincenzo Ruocco mi ha dimostrato davvero un grande e non usuale affetto. Lo consideravo un grande mago della musica tanto era la sua capacità di suonare divinamente qualunque tipo di strumento. catturava la mia attenzione mentre lo ascoltavo e ammiravo come le sue mani riuscissero a muoversi velocemente su qualsiasi oggetto che potesse produrre un suono. Sempre in tema musicale una simpatica e allegra trovata consisteva nell'organizzare ogni anno terminato il vero festival di Sanremo una gara tutta nostra in collegio durante la quale replicavamo con le nostre capacità le stesse canzoni del festival. Essendo dotato di un buon timbro e una discreta impostazione ogni anno riuscivo a piazzarmi tra i migliori tanto che ancora oggi coltivo per diletto questa mia antica passione. In quarta elementare arrivai terzo in quinta secondo mentre in prima seconda e terza media sempre primo. Con la fine della terza media terminava anche il calvario del collegio periodo duro e di grande sacrificio anche morale ed emotivo che d'altro canto mi era servito molto per imparare a convivere con altre persone rispettando determinate regole di vita e per plasmare quel carattere che mi appartiene e che mi avrebbe successivamente portato a lottare con estrema determinazione onestà e volontà al fine di arrivare alla meta stabilita. Proprio in quel periodo i miei sogni di futuro ferrarista cominciarono a intensificarsi e questo anche a causa di un Ferrari Dino 208 GT4 di un certo signor Oreste Perizzolo di Albizzate il quale essendo titolare di una ditta specializzata in pubblicità si recava spesso da noi con la sua auto in occasione delle nuove scritte adesive da applicare sul camion di mio padre quando arrivava in ditta ammiravo la signorilità del personaggio sempre vestito molto bene decisamente preparato accostando queste caratteristiche alla bellezza della vettura da lui guidata mi dava la possibilità di sognare ad occhi aperti diventare un imprenditore educato gentile e disponibile negli altrui confronti e magari fortunato proprietario di una Ferrari che avrei guidato perché no anche per lavoro le vacanze scolastiche di quell'anno sembravano non finire mai anche se mi diedi molto da fare per perfezionare la formazione di un vero complesso musicale tutte le sere fino a tardi eravamo impegnati nelle prove inizialmente nella vecchia stalla di mio nonno Antonio e poi successivamente in una sala del collegio di Albizzate messa a disposizione dal solito rettore Don Vito col tempo migliorammo molto le nostre esecuzioni ricordo i miei compagni d'avventura e quando fumo pronti io alla batteria assieme a Rolando Galmarini alla chitarra solista a Sergio Perego al basso ad Attilio alle tastiere debuttammo a una festa di paese in seguito presenziamo ad altre manifestazioni e questo per noi tutti rappresentava un modo oltre che per divertirci anche per guadagnare qualche spicciolo da poter poi destinare ai nostri capricci adolescenziali era anche il tempo dei primi innamoramenti e con le prime famose cotte giunsero assieme alle prime conquiste importanti anche le prime forti delusioni con il loro strascico di sofferenza anche se non intenzionalmente dimenticherò senz'altro qualche nome i nostri compagni e amici di quel tempo erano Pierluigi Massimo Luigi Mauro Sandro Oscar Marcello Ivano Pietro Alberto mentre le amiche compagnie e complici femminili erano Giovanna B Patrizia Giovanna C Adriana Susi Antonella Rita Maria I mesi intanto passavano ma i miei sogni permanevano senza modificarsi nell'attesa dell'inizio del nuovo anno scolastico di giorno lavoravo con mio padre aiutando gli autisti a scaricare il camion fino ad arrivare con grandissimo rischio a guidare di notte al loro posto e tutto per non incorrere nel pericolo di accumulare troppo ritardo rispetto alla tabella di marcia concordata cercavo di mettere in pratica nel migliore dei modi gli insegnamenti fino ad allora ricevuti guidando in modo regolare e sicuro aiutato dall'allora scarsa intensità del traffico ma purtroppo senza aver ancora conseguito la patente di guida confesso anche che molto spesso è stata la necessità a indurmi ad un simile comportamento capitava che qualora il nostro autista fosse impossibilitato per malattia o altro ad eseguire la sua consegna io mi sostituissi a lui agganciando da solo il rimorchio dell'autotreno e affrontando da solo l'intero viaggio pur di non perdere un carico naturalmente a viaggio terminato e nonostante tutto si fosse concluso positivamente senza inconvenienti non potevo astenermi dall'essere energicamente ripreso sia da mio padre che dal magazziniera della ditta per cui lavoravamo entrambi all'oscuro dei miei movimenti il tempo passò presi la tanto sospirata patente dopo tanti rischi corsi per aiutare la ditta di mio padre il quale proprio in quel periodo pensò di chiudere la sua attività complice la salute malferma e una lunga serie di incomprensioni a livello organizzativo con mio fratello ci regalò per riconoscenza nei confronti dei sacrifici fatti in quegli anni tutti insieme un camion ciascuno a questo punto conclusi gli studi di ragioneria ma sempre col sogno nel cuore di possedere una Ferrari presi in un solo giorno la decisione più difficile e faticosa e tentai la fortuna misi a frutto l'esperienza maturata in tanti anni di collaborazione con gli autisti di mio padre e accantonata l'idea di trovarmi un lavoro fisso e sicuro intrapresi l'avventura del camionista senza rimpianti devo dire che alle volte la fortuna aiuta gli audaci e io ero un osso duro il primo anno di attività vi assicuro è volato via con sacrifici incredibili tipo mangiare un panino a mezzogiorno per non perdere tempo in sosto inutili scaricare personalmente sempre il carico del camion per fare prima tante consegne e quindi più viaggi ho guidato per ore e ore in qualunque condizione dimenticando il sonno la televisione la pizzeria gli svaghi eccetera il mio pensiero fisso era arrivare all'acquisto del mio sogno alla fine dell'anno avendo lavorato tantissimo e non avendo speso nulla inutilmente mi ritrovavo a pensare seriamente e a programmare la prenotazione della mia Ferrari il modello meno costoso e più piccolo di cilindrata che comportava le più basse spese di gestione dopo essermi accuratamente documentato mi presentai presso il punto vendita Ferrari di Gazzada e alla verde età di 21 anni prenotai questa volta realmente la mia prima Ferrari una 208 GT4 era il 1979 e in fabbrica stavano terminando la costruzione e le consegne di quel modello il titolare dell'agenzia Ferrari il signor Giancarlo Gagliardi intuita la mia grande passione mi invitava a Maranello per una visita di cortesia e con l'occasione formalizzava il contratto già comunque ufficializzato da lui con la concessionaria Ferrari Crepaldi di Milano per la prima volta nella mia vita varcavo la soglia della fabbrica di automobili Ferrari non mi sembrava vero io semplice e modesto camionista ero lì a parlare con il responsabile delle vendite Ferrari signor Giovenzana per l'allestimento della mia futura auto desiderando maggiormente caratterizzare la mia macchina per renderla il meno possibile di serie vi apportai delle modifiche i cerchi della versione 2000 erano campagnolo ma io preferivo quelli a stella tradizionali cromadora per cui chiesi la possibilità di installare prima dall'uscita dalla fabbrica i cerchi del modello 3000 con la coppetta gialla e il cavallino nero e non quello con la scritta Dino accantonate le decisioni relative alle modifiche ebbi l'onore di prendere visione di come avveniva la costruzione dell'auto camminando lungo la catena di montaggio avevo come l'impressione di essere scambiato dalle maestranze per un attore un calciatore o un cantante invece di un semplice camionista appassionato qual ero il mio sogno di semplice lavoratore che con infiniti sacrifici arrivava alla tanto desiderata inaspettata meta si stava avverando quel giorno sembrava non finire mai terminata la visita sono stato invitato a pranzo nel famoso ristorante Il Cavallino all'entrata un cameriere dall'accento simpatico e garbato ci indicava la sala tradizionale degli ospiti Ferrari ho assaggiato le specialità modenesi squisite e in perfetta sintonia con tutto quello che avevo visto tanto che piatti posate tovaglioli e posacenere erano marchiati Ferrari il massimo per un super appassionato come me ma quella giornata mi doveva riservare ancora l'emozione più grande pensando a quanto fosse tutto quello che stavo vivendo estremamente magico per me pensai peccato essere qui aver visto molto della Ferrari e non avere la possibilità di vedere il suo fondatore ovvero il commendatore davvero un peccato ma ecco che un cameriere apre una porta vicino al nostro tavolo per entrare e servire del formaggio e io riesco a vedere molto ma molto bene proprio lui Enzo Ferrari il quale incredibile ma vero era solo stava mangiando e guardava la televisione un miracolo dietro l'altro non potevo desiderare di più beh veramente esagerando un'altra cosa mancava all'appello vedere la Ferrari di Formula 1 a ritorno in fabbrica di fronte al mio incontenibile entusiasmo per la meravigliosa giornata trascorsa il responsabile vendite in Italia mi portò nella zona del reparto di Formula 1 ed eccezionalmente trovai parcheggiata la famosa e inimitabile Ferrari Formula 1 del pilota Jody Schechter campione del mondo descrivervi quella giornata non è facile le emozioni provate sono state davvero tante e uniche vi assicuro non volevo crederci e mi sembrava tutto un gran bel sogno a rientro ringraziai il signor Gagliardi per la bellissima trasferta il quale mi assicurò che le emozioni sarebbero continuate e accentuate quando sarei entrato in possesso materialmente del bolide da me ordinato l'attesa sembrava fosse interminabile venivo informato che la vettura era entrata in produzione e i tempi di consegna sarebbero stati rispettati come dalla conferma d'ordine fatto finalmente dopo averla sognata per tante e tante notti desiderata all'esasperazione era arrivata a Gazzada presso il punto vendita dove l'avevo ordinata dopo le tradizionali pratiche e il relativo pagamento arrivò il fatidico giorno del ritiro della vettura ricordo che nella notte che precedette la consegna non chiusi occhio continuavo a guardare la sveglia e la mattina non arrivava mai mi giravo e rigiravo nel letto con una sofferenza mai provata ormai mancavano solo poche ore dovevo resistere ma l'emozione era troppo grande e non facile da gestire e contenere arrivato in sede il capo officina mi illustrava e spiegava alcuni particolari sul funzionamento e le varie potenzialità della vettura stavo per cedere all'emozione a fatica trattenevo le lacrime e dopo i convenevoli diritto e le congratulazioni finalmente arrivò per me il momento più bello la consegna delle chiavi accompagnata dalla fatidica frase complimenti arrivederci e buon viaggio all'uscita mi accorgo di avere pochissima benzina tradizione e abitudine consolidata di molti concessionari fortunatamente il tragitto fino a casa era breve e poi non avevo altra scelta non avevo più una lira dopo aver pagato la macchina il bollo e l'assicurazione guidare da gazzada a solbiate arno è stata un'emozione unica tremavo dalla gioia mentre mio malgrado versavo lacrime di felicità e di incredulità arrivato a casa non mangiai nulla e passai tutta la giornata a rimirare il mio sogno che finalmente si era concretizzato sotto i miei occhi a questo punto completamente al verde non potevo desiderare altro avevo la salute il lavoro la mia Ferrari mi consideravo davvero fortunato e tanto felice raggiunto l'incredibile traguardo di possedere una Ferrari su invito del signor Enzo Scapini allora assistenza autorizzata Ferrari venivo invitato alla mia prima manifestazione organizzata dal Ferrari Club di Milano al Castello Sforzesco con lui e un altro amico di quel tempo un certo signor Silvio Odorni partecipai a un raduno e trascorsi una giornata magica immerse nel parco c'erano circa una sessantina di auto e in mezzo ai ferraristi con estrema semplicità e simpatia partecipava con la sua Ferrari una 308 anche l'attore comico Renato Pozzetto il quale si intratteneva gentilmente con tutti noi allietandoci con battute ironiche e naturali in quella circostanza veniva a conoscenza dell'esistenza di molti altri club Ferrari e di altre manifestazioni che si organizzavano durante l'anno fu estremamente semplice stabilire un primo rapporto d'amicizia con altri ferraristi un gruppo di persone davvero alla buona veri intenditori motoristici ed appassionati della Ferrari al termine della manifestazione ricevetti la mia prima targa ricordo per aver partecipato ad una manifestazione Ferrari con tanto di foto e omaggi del comune di Milano per l'occasione prima di partire avendo fatto amicizia con numerosi altri ferraristi come di consuetudine ci scambiamo gli indirizzi e il numero telefonico col proposito di ritrovarci al più presto e di sicuro alla prossima manifestazione non vi dico che soddisfazione in quella giornata magicamente trascorsa con la mia passione la Ferrari era tale il mio entusiasmo che a stento rammentai una volta giunto a casa che avevo appena il tempo di lavarmi mangiare in fretta qualcosa dormire appena un paio d'ore e ripartire a mezzanotte con il mio camion su e giù per l'Italia ero instancabile sereno e felice possedere una Ferrari mi ripagava di tutti i sacrifici che il mio lavoro mi imponeva dopo aver guidato per 700-800 km in una giornata vedere nel garage parcheggiata l'altra mia verità mi consentiva di dimenticare tutte le problematiche lavorative gli sforzi e la stanchezza una piccola nota fastidiosa la gelosia di alcune persone stupide che si permettevano di nutrire dubbi circa la provenienza dei miei soldi per possedere una Ferrari chissà che ma sono riuscito a superare anche queste difficoltà prettamente psicologiche con un po' di intelligenza e una giusta dose di buonsenso col tempo ho avuto la possibilità di dare impulso e incrementare la mia attività di autotrasportatore acquistando un nuovo camion e con ciò moltiplicando anche le responsabilità e l'impegno economico ricordo la sera della conferma dell'acquisto a ritorno invece di brindare con il mio futuro suocero Angelo che per l'occasione mi aveva accompagnato ho rifatto tutti i calcoli dei costi degli eventuali utili sperando di non aver sbagliato nulla e pregando che la sorte potesse essere propizia benevola e ci accompagnasse a lungo senza voltarci le spalle poco tempo dopo ecco farsi largo un'altra opportunità più volte sospirata l'acquisto di un appezzamento di terreno era incredibile di sicuro un insperato colpo di fortuna sebbene meglio sarebbe stato se si fosse presentato in epoca successiva vista la concomitanza degli eventi e i gravosi impegni che ne erano scaturiti tenuto conto delle mie ormai ridotte risorse economiche per gestire la situazione contingente l'unica soluzione sembrava quella di vendere il mio sogno realizzato la mia Ferrari perciò ad un solo anno dall'acquisto mi trovavo costretto a prendere con immensa sofferenza questa necessaria ma dolorosa decisione mi ero chiesto più volte perché queste opportunità avessero scelto di proporsi tutte insieme senza una logica di susseguenza ragionevole nemmeno il tempo di assaporare la disponibilità della mia vettura e già mi trovavo ad un bivio ad una scelta fin troppo vincolata dal buonsenso e dalla realtà dei fatti al termine di molti ripensamenti e analisi comparative mi sono recato presso il punto vendita dove l'avevo acquistata e dopo una breve ma estenuante trattativa giunse a concordare il prezzo per la retrocessione della Ferrari con la solenne promessa più a me stesso che al concessionario che se fossi riuscito a riottenere i soldi necessari l'avrei ricomprata al più presto incredibile dopo tanto ma tanto fantasticare onirico ero costretto a rinunciare a ciò per cui così intensamente avevo desiderato deluso ma orgoglioso di me stesso per la decisione presa sono tornato a casa ricordo con affetto la frase della mia fidanzata Anna se ci tiene così tanto alla Ferrari vai e riportala a casa subito quanto avrei voluto assecondare il consiglio ma la logica delle cose mi induceva a cogliere quella occasione come importante e propizia non potevo lasciarmela scappare finalmente dopo aver rastrellato ovunque e ricomposto risorse finanziarie con un piccolo ma prezioso prestito da parte del mio futuro suocero di nome e di fatto il signor Angelo e con la somma ricavata dalla vendita dell'auto riuscivo ad acquistare il tanto agognato terreno ancora una volta mi sentivo orgoglioso di aver raggiunto un nuovo traguardo grazie al mio impegno e ai miei tanti sacrifici compiuti sino a quel momento traguardo che i miei genitori purtroppo non avevano mai avuto la possibilità di perseguire io fortunatamente c'ero riuscito nella mia mente restava però sempre vivo in quel momento un altro obiettivo e cioè quello di rientrare in possesso della mia Ferrari un obiettivo a cui mi sarei dedicato con impegno dopo aver onorato il prestito concesso dal signor Angelo per l'acquisto del terreno spesso la domenica passavo di proposito davanti alla vetrina del concessionario dove la mia amata macchina era in vendita e mi ripromettevo di farla al più presto tornare nel mio garage lo so potete pensare che non fossi del tutto sano di mente ma per me era davvero importante inevitabile esaltante poter riavere il mio tanto anelato sogno di nuovo parcheggiato in casa è stato necessario un intero anno di lavoro e tante privazioni per permettermi di ritornare dal signor Gagliardi e ricomprarmi per fortuna ancora in venduta la mia stessa Ferrari la notte che ha preceduto il ritiro della vettura è stata davvero convulsa sapevo a cosa andavo incontro quella mattina il pensiero di riportarla a casa mi faceva impazzire di gioia le ore non passavano mai arrivato presso la sede della concessionaria ho provveduto a corrispondere il prezzo della vettura la consegna fu velocissima avendo omesso questa volta i consueti preliminari via finalmente con il bolide e grato della mia situazione finanziaria migliore rispetto alla precedente occasione mi permisi fermandomi al distributore di esagerare facendo il pieno di benzina in auto era così intensa la mia felicità che come in altre occasioni quando le cose andavano bene ed ero contento mi riproposi di ringraziare chi da lassù non lesinava aiuti nel tracciarmi il cammino guidandomi e sostenendomi nei momenti difficili alla mente mi riaffiorava un ricordo speciale quello di mio nonno Antonio era un grand'uomo era partito con niente da semplice contadino a fattore poi piccolo commerciante per diventare successivamente responsabile dei coltivatori diretti della provincia di Varese l'unico difetto se così si può dire di un uomo tanto grande per me era la sua incapacità di andare d'accordo con suo figlio mio padre per cui i rapporti con la nostra famiglia non erano facili io gli volevo molto bene lui altrettanto mi stimava e mi diceva che assomigliavo molto a lui e che un giorno sarei diventato qualcuno quando poteva di nascosto dalla moglie mi aiutava con qualche mancia rimanendo sbalordito per le mie passioni e per le mie capacità a 14 anni riparavo le moto degli amici suonavo e cantavo con successo e mi divertivo nell'organizzare rinomati festini a lui piaceva il mio carattere e frequentemente parlavamo dei miei sogni e dei miei progetti se fosse ancora vivo credo che andrebbe fiero e orgoglioso di suo nipote ma forse forse saggia tutto e le sue parole di incoraggiamento se ben si ascolta riesco ancora a sentirle distintamente grazie nonno non mi lasciare mai tornando alla mia macchina potrei raccontarvi un simpatico episodio di quel tempo presso il centro assistenza Ferrari di Scapini e Bruttomesso veniva proposta in mostra per iniziativa del Ferrari Club di Gazzada la Ferrari Formula 1 di Gilles Villeneuve quale occasione migliore per fare una foto ricordo la cosa non era proprio facile chiesi al presidente protempore di quel club signor Brusa dimostrandogli la mia grande e vera passione di poter fare una foto dentro l'auto di primo a Chito non fu possibile nel modo più assoluto poi parlando e confermando la fede rossa riuscì a strappare la concessione la foto doveva essere scattata al mattino di buon'ora in modo da non dare troppa pubblicità alla cosa trovato il fotografo alle 7 di un sabato mattina finalmente mi calavo all'interno dell'abitacolo della vettura del mitico ed intramontabile Gilles l'auto con cui aveva inventato mille follie sulle piste fatto impazzire i tifosi di mezzo mondo rischiato tutto e di più ero emozionato commosso incredulo e indubbiamente fortunato anche questo ricordo prezioso rimarrà per sempre nella mia mente e devo ancora oggi ringraziare Gianni Brusa per avermi riconosciuto questa opportunità aveva talmente cura di quella macchina che per non abbandonarla neanche di notte si era organizzato in modo da poterle dormire accanto se non sono matti non li vogliamo ed anche la sua passione era ed è ancora singolare nella sua grandezza nel giro di pochi mesi ripresi a partecipare alle feste organizzate dai Ferrari Club così trascorrendo molte domeniche vestite di rosso davvero fantastiche spensierate e meravigliose nella condivisione della mia passione con altri sostenitori entusiasti la cosa più sorprendente era che a queste feste partecipavano come portatori di testimonianze in realtà direttamente vissute in prima persona uomini della Ferrari e meccanici della Formula 1 non era difficile per me instaurare con loro un vero rapporto d'amicizia e simpatia la loro disponibilità professionalità ma soprattutto la loro semplicità contribuiva a farci trascorrere serate e weekend all'insegna dell'allegria nel contempo aumentava la mia curiosità su tutto ciò che riguardava la storia del commendatore e del cavallino rampante utilizzavo la mia bellissima Ferrari per partecipare a questi eventi come anche per fare semplici escursioni o gite in auto all'insegna della pura voglia di guidare e non sicuramente per dimostrare come facevano alcune persone solo ed esclusivamente il possesso dell'oggetto dai più considerato prezioso e proibitivo mi ritenevo allora come oggi un vero ferrarista di sani semplici e modesti principi un vero appassionato non esibizionista o modaiolo e venne il giorno in cui una piccola parte ma significativa di storia locale della Ferrari conobbe una crisi e venne meno il punto vendita autorizzato chiuse i battenti ma per fortuna non cessava l'attività del centro assistenza condotto dai soci scapini e brutto messo grandi appassionati e abilissimi meccanici da parecchi anni manutentori esperti di auto sportive in genere e specialisti delle Ferrari frequentare quella officina per un malato di cavallini rampanti come me è stato fatale e dopo aver apprezzato per qualche anno la mia vettura venivo folgorato dalla linea della Ferrari 308 naturalmente iniziavo a pensare di fare un salto di categoria anche perché alle famose manifestazioni owners venivano organizzate delle gincane di abilità con le auto e chiaramente potendo disporre di una cilindrata maggiore migliore era la prestazione e superiore la possibilità di vincere l'interessamento di un cliente alla mia vettura diede corso alla mia speranza di poter vendere al meglio la mia auto e comprare quanto prima il modello da me desiderato il signor scapini riuscì a vendere la mia auto e mi propose una 308 GTS usata presumibilmente di colore nero targata Milano mi dichiarai disposto ad acquistarla nonostante il colore non fosse il mio preferito ma tanto era il desiderio di possederne una al più presto l'auto usata arrivò ma il colore era bianco e la targa messina poco convinto in prima battuta non la volevo ma poi l'acquistai solamente per il fatto che era l'unico usato in quel momento disponibile ad un prezzo accettabile per cui volendola subito non avevo altra scelta decisi anche di andare al mare per una decina di giorni godendomi il tragitto con l'auto come da programma dopo alcuni giorni partivo con il mio bolide all'arrivo gli amici si complimentarono per l'acquisto e scherzando mi dissero che con quella targa nessuno si sarebbe permesso di rubarla la mattina successiva dopo colazione come mia abitudine andavo dal giornalaio a comprare alcune riviste sportive e automobilistiche e mentre passavo vicino alla mia auto scrollavo la testa sussurrando tra me e me non mi sembra vero guarda che macchina che ho dopo solo due giorni di mare a rientro dalla spiaggia salito in camera per una doccia e poi prepararmi per il pranzo come al solito mi affaccio alla finestra per guardare la macchina e non so come dirvelo sbigottito attonito dallo stupore scopro che la mia Ferrari non c'è più era sparita l'avevano rubata ridisceso in pochi lunghissimi istanti giunsi davanti al parcheggio pensavo di morire l'infarto era a portata di mano inutile correre a destra o a sinistra un villeggiante mi riferiva ad averla vista partire con una tremenda sgommata verso le 11.30 insieme ad altri due auto una Porsche e una BMW non mi restava che sporgere la dovuta denuncia e inutilmente cercarla in tutta la zona sperando di scorgere qualche indizio che mi aiutasse a ritrovarla ricordo persino di essere andato in chiesa per sfogare la mia rabbia con Sant'Antonio ero un suo fedele e devoto simpatizzante rammento che davanti alla sua statua ripetevo come una litania perché hai permesso che potesse accadere questo sono una brava persona onesta e se posso fare del bene lo faccio volentieri perché deve colpirmi questa disgrazia mi sentivo defraudato ingiustamente non lo meritavo in quel momento giuravo a me stesso di non passare più come per consuetudine annualmente in visita alla Basilica di Padova al Santo dedicata ero tremendamente deluso e disperato pensavo che dopo aver fatto tanto per averla in un attimo tutto era svanito nel nulla mi preoccupavo anche per la perdita economica la vettura per fortuna era assicurata ma avevo una franchigia del 15% sul valore totale per cui voleva dire aver perso dei denari e non pochi dopo aver cercato in vano in lungo e in largo per tutta la zona muovendomi per molti chilometri su strade e agglomerati urbani e in tutte le direzioni interpellavo passanti distributori vari casellanti autostradali e quant'altro potesse darmi una benché minima speranza di informazione ma niente nessuno sapeva o aveva visto nulla di significativo immaginate che vacanza non ho fatto altro che pensare cosa sarebbe accaduto dopo l'infausto evento ne avrei cercata un'altra mi sarei rimesso ancora una volta ad accantonare i miei risparmi sacrificando ogni altro desiderio a ritorno dal mare nelle immediate vicinanze dello svincolo di Padova mi assaliva il dubbio se ripetere il tradizionale pellegrinaggio alla basilica di Sant'Antonio e così riproporre la mia visita annuale decisione all'ultimo metro proseguivo nella direzione del santuario ed arrivavo come tanti altri devoti davanti alla sua tomba grandiosa meta di pellegrinaggio dove le persone cercano da sempre il suo aiuto pregando per la speranza il conforto e la guarigione anch'io mi ritrovavo a pregare ed invocare attraverso le mie intenzioni l'intercessione del santo non vi nascondo che oltre alle preghiere per la salute di tutti i miei familiari e amici addirittura anche per le persone che non mi erano molto amiche chiedevo senza troppa convinzione e con manifesto imbarazzo un possibile aiuto allo scopo di realizzare una piccola vincita al totocalcio era l'unica possibilità rapida ed efficace per rimediare alla grande perdita subita in termini economici tanto da poter ritornare in possesso al più presto della somma necessaria per ricomprarmi l'auto tornavo quasi in pace con me stesso e certo di aver fatto la cosa migliore pur non nascondendo la convinzione a quel punto e non so perché di poter contare su un aiuto da parte del mio grande amico santo al mio ritorno mi rese conto mio malgrado che le sorprese negative non erano finite infatti la mia assicurazione mi avrebbe risarcito al netto della franchigia solo quando la vettura fosse risultata a me intestata peccato che quando ero partito ero in possesso solamente di un permesso per circolare provvisorio con validità di un mese cercando di accelerare la pratica per la formale intestazione al fine ad essere liquidato ahimè veniva a conoscenza dopo aver più volte interessato il signor Scapini dove aveva acquistato l'auto e il signor Crepaldi allora concessionario esclusivo Ferrari per la Lombardia e venditore della stessa che sulla vettura gravava un'ipoteca accumulativa con una Rolls e una Porsche a garanzia di un prestito scadente da lì a pochi mesi mi sentivo davvero truffato raggirato e perseguitato dalla sfortuna in tutti i modi non vi dico le telefonate e le arrabbiature esasperato dalle bugie dei miei diretti interlocutori nella vicenda scrissi una lettera all'ufficio commerciale della Ferrari ma il tentativo non sortì a alcun effetto significativo presi una decisione telefonare personalmente in Ferrari a Maranello il coraggio mi venne una mattina dopo aver visto una bellissima 308 sfrecciarmi davanti tornai a casa presi il telefono e chiamata la sede della Ferrari chiesi al centralinista di poter parlare con una persona responsabile ed onesta visto che mi stavano prendendo in giro da parecchio tempo sia il concessionario che la gente per non dire che addirittura mi era arrivata una lettera dal commerciale Ferrari che diceva di avere pazienza che tutto si sarebbe sistemato in breve tempo sì ma quando il centralinista cortesemente mi passò la segretaria del direttore commerciale la quale dopo aver sentito la mia storia mi disse che quel giorno nel tardo pomeriggio mi avrebbe fatto chiamare dal dottor della casa che avrebbe sistemato tutto in poche ore facevo un piccolo trasporto a Milano tornavo a tutta velocità inditta per caricare il camion in modo che fosse pronto per il giorno seguente con destinazione Pordenone e ritornavo a casa in fretta e furia in attesa della telefonata verso le 5 e mezza squillava il telefono era davvero il direttore commerciale in persona esordiva chiedendomi scusa da parte della Ferrari per l'accaduto mi rincuorava e tranquillizzava dicendomi che nel giro di qualche giorno sarei venuto in possesso dei documenti necessari per perfezionare il passaggio di proprietà mi confermava inoltre che avrebbe obbligato le persone concessionari ed agente ciascuno per le sue competenze a liquidarmi anticipatamente la somma assicurata per la montare stabilito per poi restituirla una volta incassata dall'assicurazione al termine aggiunse che se i suoi interlocutori non avessero provveduto al più presto a dirimere la situazione si impegnava personalmente come responsabile Ferrari a liquidare il dovuto per poi prendere seri provvedimenti nei confronti dei suoi operatori stupito mi rese conto che anche questa volta una persona pur normale e modesta come me aveva ottenuto ragione chiaramente grazie all'intervento del dottor della casa alla sua inestimabile onestà e signorilità il quale tra l'altro mi invitò in Ferrari per una visita di cortesia in fabbrica scusatemi ma questo era un po' come il cacio sui maccheroni sistemata la situazione venivo risarcito dal Crepaldi prendevo appuntamento per andare a ringraziare di persona il dottor della casa e così godermi per la seconda volta la visita della fabbrica di automobili per me ma non solo più importante del mondo l'appuntamento era alle 10.30 e anche se vi sembrerà ridicolo alle 8 mi trovavo già a girare per le strade di Maranello curiosando a destra e a sinistra fotografando tutto ciò che mostrava un cavallino rampante tappa obbligatoria a Maranello era il negozio di fronte alla fabbrica chiamato Shopping Formula 1 gestito dalla ormai famosissima signora Miranda e dal marito lì si poteva trovare di tutto dalle ultime foto dei piloti a quant'altro riguardasse la Ferrari modellini abbigliamento libri moderni e storici gadget vari sempre rigorosamente con il tradizionale scudetto o cavallino quella per me era la seconda volta che incontravo la Miranda signora decisamente gentile simpatica e disponibile ad accontentare ogni richiesta anche la più eccentrica di alcuni ferraristi le raccontavo tutta la mia storia e le sfortunate vicissitudini e mi rincuorava dicendo che la persona che avevo interpellato in Ferrari era davvero quella giusta esprimendo complimenti ed elogi al direttore dottor della casa finalmente l'ora stabilita arrivò entrai in portineria e mi annunciai era solo la seconda volta che barcavo la soglia d'entrata della fabbrica Ferrari e chissà perché mi sembrava già casa mia mentre aspettavo l'incontro con il direttore rimiravo il salone decente alla portineria fatto di piastrelle gialle con impresso il cavallino nero un paio di divanetti qualche quadro o stampa che riproducevano eventi legati alle corse e una splendida Ferrari storica 250 GT al centro del salone in mostra per i visitatori dopo qualche minuto arrivò il dottor della casa una persona davvero gentile e squisita lo ringraziai di cuore per avermi risolto il problema e ancora una volta mi disse ad un cliente Ferrari non devono accadere queste cose noi viviamo e lavoriamo grazie a loro essendo questo il nostro patrimonio dobbiamo curarlo e coccolarlo nel modo migliore dopo questo scambio di complimenti mi permettevo di consegnargli un piccolo pensiero di ringraziamento consisteva in una confezione di vino pregiata con mio immenso stupore invece di sistemarla nel suo ufficio mi fece vedere gli uffici commerciali presentandomi alcuni collaboratori e consegnando a loro la confezione di vino dicendo che l'avrebbero bevuta insieme alla prima occasione scusate ma la classe non è acqua che persona prima di congedarsi incaricava il signor Giovenzana di portarmi in fabbrica per una visita e poi a pranzo al mitico ristorante Cavallino anche questa fu una giornata meravigliosa passeggiare in mezzo ai luoghi di nascita dei voli di Rossi era emozionante pranzare nel locale del Cavallino immerso di cimeli di ogni genere marcati Ferrari era esclusivo e la giornata non poteva terminare meglio al saluto finale mi veniva regalato un foulard per la mia fidanzata Anna ed un porta block notice di tessuto Ferrari con impressi tantissimi cavallini corredato da una penna di colore rigorosamente rosso in macchina mentre tornavo a casa continuavo a pensare alla strategia per ritornare al più presto possessore di una Ferrari veniamo alle cifre la mia perdita montava in circa 17 milioni di lire e dopo pochi mesi precisamente a marzo mentre pensavo seriamente di potermi ricomprare l'auto si verificò una cosa unica e straordinaria avevo giocato come tutte le settimane e come molti italiani la solita schedina e quella domenica se era il momento del tradizionale controllo non mi sembrava vero ricontrollo una decina di volte e poi ancora una volta e sì udite bene avevo centrato il fatidico 13 avevo vinto al totocalcio l'entusiasmo era alle stelle la gioia incontenibile dentro me stesso continuavo a ringraziare il mio Sant'Antonio che aveva ascoltato le mie preghiere e forse interpretato la mia storia con un sentimento particolare non sapevo ancora quanto avevo vinto vi assicuro che ipotizzare la cifra non era facile speravo fosse alta per potermi sistemare per sempre ed esaudire ogni tipo di desiderio la notte non passò placida e serena non vedevo l'ora che arrivasse la mattina del lunedì con il mio camion partivo per alcune consegne verso la bassa milanese per cui alle 6 mi trovavo in autostrada dopo pochi chilometri mi fermai alla pavesi di Milano per un caffè e per vedere subito il giornale scoprendo così finalmente la cifra vinta non vi nascondo che in tutte quelle ore avevo costruito castelli e comprato di tutto e di più con apparente calma sfogliai il giornale trovai la pagina con le quote il cuore mi batteva come un orologio automatico gli occhi erano lucidi dall'emozione scrutai con una speranza inverosimile il mio sogno di una vincita esagerata ma svanì immediatamente la somma stabilita e vinta risultava essere di 22 milioni circa la mia prima frase porca miseria per una volta che faccio 13 non potevo vincere tanti soldi piano piano comunque realizzai che la somma vinta per un destino benevolo sembrava corrispondere al risarcimento della perdita assicurativa con gli interessi nelle mie preghiere avevo chiesto solo quello e quello mi era stato dato cose da non credere ma i miei migliori testimoni erano i miei familiari con cui dividevo ogni cosa dopo una ridimensionata totale dei miei sogni apprezzavo in modo naturale il colpo di fortuna e ringraziavo il mio angelo custode ripromettendomi di andare al più presto nella sua basilica a Padova per una visita cortese ed un'offerta di ringraziamento con quella somma diventava immediata e reale la possibilità di ritornare in possesso della Ferrari quindi decidevo questa volta di andare in terra modenese a caccia di una 308 GTS usata sperando di fare un buon acquisto sia nel mezzo che nel prezzo un sabato mattina parto alla volta di Modena alcuni amici mi avevano consigliato di provare con un salonista della città specializzato in auto sportive e con ottime vetture usate Ferrari il destino era davvero dietro l'angolo dopo aver raccontato al proprietario la mia disavventura mi faceva vedere una 308 GTS rosso con interno bianco molto bella usata bene e con pochi chilometri era la mia occasione stabilito il prezzo fornivo tutti i documenti per il passaggio e era fatta ritornavo possessore del mio sogno dopo una settimana circa ritiravo l'auto con un entusiasmo da bambino mi commuovevo perdendo qualche lacrima di gioia e pregavo che non mi accadesse nessuna disgrazia anzi un po' di tranquillità tanto lavoro e qualche berra d'uno per rincontrare al più presto tutti gli amici ferraristi superato questo assillo della vettura mi rimettevo seriamente a riflettere sul mio futuro impegnandomi a migliorare ancora di più la mia posizione lavorativa si trattava di predisporre tutte le pratiche per rendere possibile della costruzione del capannone i miei giorni passavano come al solito con tanti sacrifici e tanta gioia al ritorno dal lavoro era come un rito andavo in garage a salutarla e baciarla come una di famiglia un primo impedimento sulla pratica di costruzione veniva dal comune ma che importava intanto potevo godermi qualche raduno Ferrari con gli amici quante persone ho conosciuto a quelle feste ho coltivato molte amicizie qualcuna anche persa nel cammino ma soprattutto ho fatto molta esperienza che mi è servita in seguito negli anni successivi per capire sempre di più le persone i loro atteggiamenti e il senso della vita il 1984 era volato pieno di soddisfazioni sia nel campo lavorativo che in quello della mia principale passione la Ferrari a questo punto non posso esimermi da raccontarvi anche la storia della macchina parlante a quel tempo in televisione facevano vedere gli episodi di Supercar la famosa Pontiac auto americana nera che parlava con il suo conducente il quale tramite il suo orologio da polso era in grado di telecomandarla a piacimento l'entusiasmo di quegli strani miracoli tecnologici mi portava con la fantasia a pensare di poter fare qualcosa di simile certo con poca esperienza e con quello che potevo sapere di elettronica non era facile ma mi era agevole interpellare l'amico Danilo Riganti elettricista di Solbiate Arno il quale per simpatia prese in considerazione di studiare una possibile soluzione per inventare un marchigegno che facesse parlare la mia auto pensato e ripensato per qualche sera ecco spuntare alla mente la classica lampadina recuperato il materiale necessario all'assemblaggio del kit parlante si iniziava la costruzione alle infinite prove di aggiustaggio e sincronismo dei vari temporizzatori impiegati al funzionamento tutto pronto mancava solo la voce mentre sulla Pontiac era una voce maschile io desideravo una voce calda e sua dente di donna non era facile trovare una persona disponibile a registrare la propria voce per un simile gioco una sera mi venne un'idea nei giorni precedenti avevo parlato con Enrico Grandi un amico carroziere ed essendo anche lui a conoscenza della cosa tentai di convincere sua sorella spiegandole che sarebbe stata sicuramente una cosa simpatica e scherzosa se avesse voluto partecipare a questa registrazione dedicammo all'esperimento parecchie ore il mio essere pignolo nell'affrontare le cose richiedeva la massima precisione per cui non vi dico le prove e riprove alla fine il risultato fu stupefacente mi sembrava già di vedere il tutto funzionante una volta assemblata l'apparecchiatura non restava che installarla sulla vettura sincronizzando le parti necessarie al suo funzionamento era arrivata l'ora della prima prova effettiva e vai schiaccio un tasto del telecomando a disposizione e il congegno come d'incanto parte regolarmente la mia Ferrari suonava il claxon per attirare l'attenzione e si sentiva la voce che diceva ehi ciao sono io che ho suonato mi chiamo Ferrari 308 e sono un'auto fantastica e programmata per fare tutto ciò che il mio amico vuole ascolta attentamente il suono delle mie trombe il claxon dava una strombazzata adesso guarda attentamente i miei fari i fanali perfettamente sincronizzati si alzavano e abbagliavano un paio di volte sono un'auto speciale e non stupirti se parlo sai sono anche collegata costantemente con la polizia e pressoché inespugnabile adesso devo andare sta arrivando il mio amico Mauro ti saluto ciao si spegnevano i fari e il gioco era finito vi assicuro nell'officina del signor Scapini erano tutti increduli ed entusiasti il meccanismo funzionava alla perfezione ed era simpaticamente strabiliante mi davano del pazzo fantasioso ma era davvero divertente gli episodi da raccontare sarebbero innumerevoli una sera a un raduno Ferrari a Cernobbio la macchina ha fatto impazzire le guardie addette al controllo delle vetture nel parcheggio del ristorante non ci volevano credere che una macchina potesse parlare in quel modo una domenica ero da Scapini a vedere un gran premio di Formula 1 quando un bambino si fermò davanti alla macchina posteggiata di fronte alla casa per rimirarla scatta la mia pressione sul telecomando e cominciò la sceneggiata parlante il bambino rimase pietrificato ascoltò attentamente cercò di scoprire da dove provenisse la voce pensò dalla radio e allora guardò dentro ma quando suonò e si accesero i fari allora si illuse davvero che fosse una macchina parlante addirittura quando la 308 salutò con il suo amorevole ciao il bimbo rispose al saluto e la carezzò pur tuttavia il bello doveva ancora venire il ragazzino corse via e dopo pochi minuti tornò con gli altri bambini spiegò quello che aveva visto e sentito accarezzò ancora l'auto chiedendole di parlare vide che non succedeva nulla e i suoi amici cominciarono a prenderlo in giro dicendogli che era un bugiardo un visionario si inchinò davanti al cofano anteriore e con le mani giunte pregò affinché parlasse mentre i suoi amici se ne andarono schernendolo schiacciai il pulsante e via non vi dico l'entusiasmo di quei bambini ascoltarono in silenzio fino all'ultima parola e scattò la rivincita del primo e la curiosità per tutti di capire da dove parlasse paragonandola a quella della televisione la famosa supercar parlante in un'altra occasione ad un raduno organizzato a Desenzano un ferrarista tedesco voleva comprarmi l'auto ad una festa a Lecco è stata ripresa dalla televisione locale e presentata a tutti i ferraristi ad un raduno in provincia di Mantova nella fase della premiazione il presentatore fece lo spiritoso con il mio numero di gara e annunciò al microfono presentiamo il numero 47 il morto che parla io gli rubai il microfono e gli risposi non il morto ma la macchina che parla e dopo una leggera pressione sul telecomando ecco lo spettacolo nello spettacolo la gente entusiasta ed incredula nel sentir parlare la macchina la mia 308 parlante mi ha aiutato a far sorridere moltissime persone ed io con loro mi sono divertito moltissimo dopo tutto questo chiasso della macchina parlante è arrivata anche un'intervista da parte di un giornale sportivo varesino ed una proposta mai sperata e subito rifiutata da parte di una responsabile di Canale 5 per portarla al famoso spettacolo della domenica Drive-In era prevista una puntata insieme con la vera Pontiac Transam nera parlante ma alla richiesta di portare l'auto e lasciarla per una settimana presso gli studi televisivi non me la sono sentita nemmeno a fronte di un compenso in denaro non trascurabile La Ferrari sempre più una passione La Ferrari era davvero molto importante per me l'ambiente era umanamente straordinario le persone che io conoscevo oltre che dipendenti Ferrari erano soprattutto grandi appassionati riconoscenti nei confronti di un uomo unico e insostituibile il quale riusciva a trasmettere orgoglio e caricare motivandoli tutti i suoi dipendenti Nei miei sogni proibiti c'era poi un'altra cosa che desideravo ma ne parleremo più avanti Grazie a Dio e al mio Sant'Antonio di Padova il lavoro andava molto bene i miei sacrifici non finivano mai i chilometri venivano macinati senza dolore né stanchezza a ritorno sapevo di salutare sempre la mia auto e così il tempo sul camion passava veramente molto veloce In una delle varie manifestazioni dedicate alla Ferrari cui ho partecipato stringevo amicizia con i meccanici Ferrari di quel tempo il Macchi Enzo faceva gli scarichi della Formula 1 il Baschieri Romano motorista specializzato il Leopardi Gisberto meccanico di pista dei tempi il Baffo Leonardo Di Piero responsabile della fonderia il Barbieri Maurizio meccanico di Formula 1 e tanti altri consolidavo la conoscenza e l'amicizia anche con il signor Valerio Stradi segretario personale dell'ingegner Enzo Ferrari raccontandogli tutta la mia storia fino a quel momento devo dire che rimase assai stupito da tale passione e un infinito amore per il cavallino tanto che mi invitò a Maranello per rivedere la mitica fabbrica quella è stata una svolta positiva a fine giornata rimase sbalordito per quanto sapessi della storia del marchio e della fabbrica e mi disse quando vieni la prossima volta con altri amici a visitare la fabbrica se vuoi mi aiuti con i vari gruppi dei Ferrari Club nelle loro visite programmate un'occasione che non si poteva lasciar perdere per me era un grande onore così presi la palla al balzo incasellando una serie di lunghi e meravigliosi sabati dedicati alle visite guidate arrivavo puntualmente con uno o due amici da Varese l'amico Valerio mi assegnava una cinquantina di persone appartenenti a qualche Ferrari Club italiano e via si partiva entravo in fabbrica e iniziavo a spiegare sempre sotto il suo vigile controllo la lavorazione dei metalli per la produzione delle parti motoristiche l'assemblaggio delle vetture un passaggio nel reparto Sartoria per gli interni la finitura delle vetture il controllo finale della carrozzeria il reparto di collaudo e qualche volta anche la visita straordinaria nella fonderia gli appassionati dei club rimanevano stupiti pensate avevano un tale rispetto che alcune volte percorrevano le corsie della catena di montaggio in silenzio quasi quasi come fossero in chiesa la condivisione di tale onore dava un'emozione particolare alla visita io terminavo con alcuni dati sulla produzione delle vetture e ventilando le prospettive future anticipavo alcune notizie scoop circa la produzione dei nuovi modelli conclusa la visita in fabbrica si passava alla pista di Fiorano e per l'occasione Valerio faceva trovare una Formula 1 nel piccolo piazzale antistante la casa di Enzo Ferrari posta al centro della pista questo regalo per gli appassionati era il massimo che potevano desiderare a tutti i partecipanti veniva regalato un opuscolo che riprendeva tutto quello detto e visto nella mattinata Valerio era una persona straordinaria mi ricordo che era solito dire vedi Mauro tutto quello che io do ai tifosi è materiale che per noi ormai è superato la tecnologia è in continuo aggiornamento come le foto e le notizie ecco perché ho chiesto al commendatore invece di distruggerlo di poterlo donare ai nostri tifosi come ricordo della loro visita a lui andava bene figuratevi loro come erano contenti quelli erano davvero bei tempi con una semplice richiesta si poteva avere la possibilità della visita descritta quando un club faceva la sua festa annuale si poteva richiedere di avere una formula 1 da mostrare a tutti i soci alla festa partecipavano alcuni responsabili o meccanici di formula 1 che testimoniavano tutto quanto si potesse dire sulla Ferrari ora le cose sono drasticamente diverse completamente cambiate pensate solo a quanto faceva piacere al Drake che i Ferrari club inventassero graficamente il loro logo o titolassero in memoria di piloti i loro sodalizi oggi con le nuove regole l'emblema deve essere uguale per tutti pensate in questi giorni si è anche cambiata la gamba del cavallino perché? perché obsoleta non andava più bene a me sembra quasi che il mito si sia identificato diffuso e accresciuto in fama e gloria con una gamba inadeguata io non voglio osteggiare le nuove politiche aziendali sarebbe illogico il sistema di oggi è questo la società deve evolversi con tutto il suo indotto però perché non guardare indietro e dimostrare un rispetto più rigoroso della memoria di chi ha creato tutto dal nulla sicuramente se lo merita e forse è per questo che chi come me ha creduto in quella formula gestionale grezza ma ricca di valori oggi sta male è profondamente insoddisfatto egoisticamente mi sento di dire che se avessi la possibilità troverei altre e più efficienti soluzioni per migliorare la direzione della Ferrari e tutti i tifosi mantenendo forte e immutato l'amore per il cavallino comunque a quei tempi anche la mia gioia era indescrivibile vi giuro che partecipare come protagonista a quelle visite non mi sembrava vero nessuno a cui avessi raccontato quanto facevo al sabato lo avrebbe creduto per la verità non mi interessava dirlo in giro ad altre persone ero talmente entusiasta personalmente che a me bastava ed avanzava pensate di giorno un normale camionista è pieno di problemi come tutti il tempo brutto troppo caldo ghiaccio neve la premura di voler fare tutte le consegne in tempo per poter ricaricare il camion per il giorno successivo la velocità in autostrada da tenere sempre controllata a volte vi assicuro era più il tempo che guardavo gli specchietti retrovisori per vedere se sopraggiungeva la pattuglia della polizia che quello dedicato a scrutare la strada davanti purtroppo e ammettendolo non mi sento certo orgoglioso dovevo andare oltre i limiti consentiti altrimenti non facevo in tempo a fare tutto mi reputavo una persona fortunata e ben voluta da tutti clienti fornitori e collaboratori ricordo con grande piacere il mio magazziniere un certo signor Fausto Toia di Bustarsizio il quale mi ha sempre rispettato e voluto bene addirittura scommetteva in modo simpatico con gli operai della ditta sull'ora del mio rientro mi chiamava il veloce sapeva che poteva contare su di me per le consegne importanti e urgenti non l'ho mai deluso e lo ringrazio ancora per la grande fiducia che ha riposto in tanti anni di lavoro una persona veramente onesta dopo tante cose belle e spensierate ma guadagnate con sudore iniziava un altro momento importante per la mia vita la costruzione della mia nuova sede fino a quel momento avevo avuto in affitto un piccolo capannone a Solbiate Arno ma in me c'era la voglia di averne uno tutto mio magari per poter reinventare un altro lavoro forse di stoccaggio e magazzinaggio al fine di smettere il mestiere dell'autotrasportatore dopo un po' di anni cominciavo ad essere stanco purtroppo la mia non era una vita propriamente normale praticamente dormivo nel letto di casa circa 4 o 5 ore a notte il resto del tempo lo passavo sul camion durante la settimana non vedevo mai la televisione un film i miei amici alla sera andavano al bar in palestra o a ballare o comunque a divertirsi e sbagarsi quante volte la domenica io partivo con il camion e invece loro partivano per andare in discoteca nonostante gli impegni di lavoro la mia passione non mi dava tregua una notte mentre viaggiavo con il mio camion mi venne un'idea perché non fondare un Ferrari Club a Varese al mio rientro andai a trovare Scapini nella sua officina gli proposi la mia idea ne fu subito entusiasta e mi disse che alcune persone di Varese volevano fare la stessa cosa per cui mettendoci insieme avremmo avuto buone chance di costituirlo ne parlammo subito anche con il ferrarista Silvio Odorni e con l'amico Raffaele Bacegliere titolare della concessionaria Fiat Iveco e il gioco era fatto nel giro di pochi giorni ci incontrammo con i signori Roncari e Segafredo di Varese con preparativi super veloci e in tempo record eravamo pronti per la grande inaugurazione avevamo scelto come luogo di presentazione al pubblico la concessionaria di Bacegliere sita in bodio Lomnago era grande spaziosa e poi ci dava un contributo sulle spese iniziali non indifferenti per la nostra partenza per cui in mezzo ai bisonti della strada ci stavano molto bene parcheggiate in bella mostra anche le nostre Ferrari furono coinvolti in questa festa clienti Fiat amici simpatizzanti e clienti possessori di Ferrari galvanizzati dalla forte passione rossa i quali venivano a brindare mangiare e iscriversi al nuovo e grande sodalizio della Ferrari a Varese il successo fu notevole gli iscritti in quella giornata tanti insperati la nostra soddisfazione alle stelle così da farci ipotizzare già un primo raduno ufficiale Ferrari nella nostra provincia Varesina il mio compito chiaramente era quello di tenere le relazioni pubbliche con la Ferrari dopo un cambio alla presidenza dal Roncari al signor Ermanno Ferri giovane e rampante comproprietario della famosa ditta di antifurti gemini ci fu la decisione di organizzare davvero il raduno Ferrari l'impegno era notevole occorrevano tanti soldi permessi di ogni genere aiuti persino dall'ACI per una prova di accelerazione e regolarità la collaborazione con l'Hotel Palace di Varese noi avevamo voglia di riuscire e fare una bella figura sia con la Ferrari che con la nostra città nonostante tutto e in tempi incredibilmente brevi fumo capaci ritengo di organizzare un raduno in un modo esemplare perfetto e singolare i compiti erano stati suddivisi tra i consiglieri e portati a termine in modo brillante ricordo l'amico Lucio Bogni che per la premiazione delle prove agonistiche decise di acquistare senza badare a spese delle coppe degne dei vincitori di Formula 1 come non dimentico la grande passione e disponibilità del direttore del Palace Hotel di Varese signor Ezio Sacrini persona molto brava nel svolgere il proprio mestiere e coinvolta nella grande storia Ferrari voleva sapere tutto sulla marca del Cavallino soprattutto quando si parlava di Formula 1 desiderava avere novità aneddoti e pettegolezzi che io recuperavo dagli amici di Maranello e con il loro permesso divulgavo quando possibile finalmente si apre il nostro primo raduno Ferrari a Varese accettati i primi 70 equipaggi iscritti eccoli arrivare al sabato mattina e schierarsi presso i giardini estensi di Varese una cornice nella cornice uno spettacolo mai visto in provincia l'affluenza delle persone ed appassionati fu speciale unica ed esaltante una curiosità della manifestazione nelle mie partecipazioni ad alcuni raduni e feste avevo conosciuto due responsabili della azienda Ansa Marmitte fornitore ufficiale della Ferrari i signori Goffredo Guaraldi e Giuseppe Bonfatti i quali dietro mio invito partecipavano come sponsor regalando ai ferraristi una bellissima litografia per l'occasione a queste due persone vanno i miei più sinceri ringraziamenti se a quei tempi ho avuto la possibilità di andare spesso ai box della Formula 1 il merito è esclusivamente loro facevano di tutto per fornirmi i pass d'entrata per me era un sogno eppure senza divulgare la cosa sono andato molte volte ai box e vi assicuro era incredibilmente affascinante vedere i piloti le Formula 1 e tutto il circus e quante belle donne una rassegna interminabile ma torniamo a Raduno la manifestazione era davvero imponente faceva onore al nostro club che rilanciava in grande stile lo sport automobilistico a Varese la nostra città vanta una lunga storia oserei dire una tradizione popolare che durava da oltre 60 anni noi avevamo riscoperto la voglia della cronoscalata Varese Campo dei Fiori organizzando per l'occasione speciale una gara di regolarità la ciliegina super sportiva veniva la domenica tutti in Biale Belforte per una eccezionale prova di accelerazione il pubblico era immenso la tifoseria esagerata i piloti erano pronti a dare il massimo uno spettacolo indimenticabile pensate ancora oggi i presenti ne parlano alla fine della gara la gioia la stanchezza si erano impadronite di tutti i partecipanti come tradizione pranzo premiazioni speciali ai vincitori e un caro saluto da parte delle autorità cittadine e del nostro consiglio i complimenti si sprecavano tutti i ferraristi erano felici per la riuscita del raduno chiedevano già se il prossimo anno pensavamo di organizzare la seconda edizione il nostro grande successo era arrivato già dalla prima performance del nuovo sodalizio insomma tutto perfetto è in sintonia come lo era l'amicizia con tre ferraristi speciali incontrati a raduni diversi Claudio Zampetti da Roma Antonio della Maria da Cagliari e Ugo Merzagora di Legiuno in provincia di Varese la bandiera del cavallino non aveva frontiere questi tre grandi amici sono rimasti tali dopo tutti gli eventi poi susseguitesi nella vita quotidiana gli impegni di lavoro la famiglia e gli anni che passano con Claudio siamo rimasti molto vicini partecipando l'un per l'altro ai rispettivi problemi e insieme ci siamo aiutati ragazzo indomabile aveva capacità imprenditoriali incredibili e grande coraggio oggi è diventato davvero un grande manager il sardo Antonio amico instancabile nel trascorrere giornate dedicata da Ferrari una volta è rimasto con noi una settimana a Varese mamma mia non voleva più andar via diceva io amici come voi non ne ho mai trovati per fortuna che è tornato al suo paese noi dovevamo lavorare lui in quel periodo poteva farne a meno quante cose dovrei raccontarvi di Ugo persona seria posata cordiale ma con un grande difetto di memoria che lo portava ad arrivare sempre in ritardo nei trasferimenti sbagliava sempre la strada nelle gare entrava dove gli altri uscivano e viceversa la sua auto ne aveva sempre una il colmo pensate che a quel tempo faceva l'elettrauto quanti scherzi gli ho fatto e quanto mi ha voluto e mi vuole tuttora bene ricordo ancora insieme a Claudio con grande piacere quando sulla rotonda di Ardenza e a Livorno nella gara di abilità abbiamo sbaragliato con numeri davvero indescrivibili la folla impazziva quando entravamo nel piazzale per le prove del pomeriggio per poi esultare con noi nella prova finale notturna avevo una compagnia di ferraristi meravigliosa ci telefonavamo durante la settimana e alla domenica si partiva per le feste comandate tutti legati dall'amicizia reciproca spontanea e sincera come era quella di Silvano Federzoni di Maranello anche lui grande persona simpatica cordiale e partecipante a tante manifestazioni compresa quella di Varese la casa madre rappresentata da Valerio Stradi il quale oltre che segretario personale del commendatore era anche l'unico responsabile di tutti i club Ferrari del mondo rispondeva con complimenti per quanto organizzato e si riprometteva di partecipare con il massimo impegno al prossimo evento nel nostro calendario una sera e scusate che sera verso le 20 mi telefonava l'amico Valerio Stradi mi diceva che il commendatore Enzo Ferrari gli aveva chiesto di trovare in Italia altri 4 nominativi di possessori di auto Ferrari da inserire nella direzione del Costituendo Ferrari Club Italia con sede a Maranello dentro la fabbrica voleva dar corso alla possibilità di curare l'immagine pubblicitaria e sportiva verso la clientela Ferrari mi disse Mauro ho proposto anche il tuo nome conoscendoti molto bene mi sembri proprio la persona giusta beh scusate ma non capivo più nulla gli risposi Valerio ma sei proprio sicuro che io possa meritarmi tanto non so se sono all'altezza di tale compito ribatte con poche parole non preoccuparti con la tua passione tutto per te diventerà facile dimmi di sì e ti mando la prima convocazione per una riunione preliminare qui in fabbrica sì gli risposi va bene non so come andrà ma accetto molto volentieri mi ricordo che nel terminare la telefonata aggiunse guarda che c'è anche Armando Gilardi un tuo vecchio e caro amico per cui potete venire insieme e vi fate compagnia di Armando non vi avevo ancora parlato l'ho conosciuto a raduno di Desenzano dove c'era come presidente del club un altro amico di quel tempo un certo Tino Zanelli insieme al brizzolato Oscar Busi mentre uscivamo da una visita a una cantina sociale partivo con una strepitosa sgommata e mi allenavo con le altre macchine dopo qualche secondo sentì un'altra auto sgommare e si accodò dietro di me era lui Armando scesa dall'auto sorridendo e si avvicinò alla mia portiera esclamando tu sei uno giusto come me ti piace fare le pirlate con la macchina e devo dire che mi sembri anche bravo complimenti un tipo davvero strano simpatico e divertente da quel momento diventammo inseparabili ad ogni festa eravamo i due pazzi scatenati che facevano divertire il pubblico ferrarista devo dire la verità anche lui era molto bravo ecco la sua macchina mi permetto di ricordare uno dei tantissimi episodi con Armando quando su coinvolgimento della Ferrari venivamo invitati al raduno dell'isola d'Elba a dare sfogo alle prestazioni delle nostre auto in una situazione di perfetta tranquillità e di tutela dell'incolumità dei presenti come in un'arena partivamo uno di fronte all'altro e senza preparativi del caso ci sfioravamo con i posteriori delle nostre auto andando in testa coda volutamente e continuando a girare su noi stessi facendo infiammare letteralmente tutto il grande pubblico presente si dava e si provava un'emozione indescrivibile quelli erano davvero momenti indimenticabili il pubblico era festoso i ferraristi pure le officine naturalmente lavoravano di più ora per quanto mi risulti e per quanto detto dall'amico Aurelio Balzarotti se ti vedono fare cose del genere in alcuni raduni volutamente d'elite ti cacciano via e addirittura si propongono di escluderti dal loro club perché persona indesiderata attenzione è chiaro che queste cose vanno fatte esclusivamente quando ci si trova in condizioni di massima tranquillità per il pubblico ma non sono assolutamente volgari pensate quante ne ha fatte il pilota Gilles Villeneuve quando usciva dalla pista di Fiorano i suoi tifosi impazzivano per lui e per la Ferrari l'amicizia con Armando anche se ormai ci vediamo raramente è rimasta immutata la stima e la simpatia cresciuta in tutti quegli anni non potrà mai dissolversi anche se alcune persone gelose hanno cercato nel tempo di rovinarla noi siamo e saremo sempre gli stessi troppo profondo è il legame e la passione che ci accomuna torniamo alla telefonata ricevuta da Valerio Stradi pochi giorni dopo arrivò la convocazione scritta per una riunione in sede Ferrari a Maranello a fine di incontrare gli altri prescelti e conoscere le motivazioni dell'invito chiamo subito Armando e con lui organizziamo la partenza in macchina gli faccio notare tutte le mie perplessità attorno alla partecipazione in quel consiglio direttivo alle problematiche lavorative e a tante altre eventuali questioni insomma io ero una persona semplice e preoccupata non volevo fare brutta figura Armando mi rincuorava dicendomi che ci saremmo aiutati a vicenda nei compiti futuri a noi assegnati per cui dovevamo affrontare con la massima tranquillità la situazione senza crearci problemi di nessun genere finalmente arrivati ero decisamente emozionato salutato Valerio Stradi ci presentò i nostri nuovi colleghi che con noi avrebbero iniziato l'avventura e la fondazione del Ferrari Club Italia a Maranello iniziò a parlare Sergio Cassano già presidente dell'unico club di Ferrari Owners con sede a Valenza in provincia di Alessandria spiegò di aver già parlato con Valerio Stradi e l'ingegner Ferrari con Franco Gozzi e Luca Matteoni circa la possibilità di gestire per conto della casa madre le relazioni pubbliche verso la clientela Ferrari sviluppando la passione e l'amore per il marchio del cavallino organizzando manifestazioni in Italia e all'estero insomma la prospettiva era quella di assumere il ruolo di stretti collaboratori della direzione Ferrari avendo a disposizione un ufficio la sala riunioni e quant'altro ci servisse in caso di bisogno ero decisamente frastornato non mi sembrava vero forse addirittura un miraggio invece ero proprio lì a chiacchierare con altri ferraristi decisamente di alto lignaggio quasi tutti industriali e possessori di più di una vettura io al contrario un semplice e modesto camionista una Ferrari conquistata a denti stretti e una situazione patrimoniale modestissima c'era un'altra persona che partecipava alla riunione a rappresentare una situazione sociale più simile alla mia e vecchia conoscenza dei raduni il buon Giuseppe Cassani detto amichevolmente da tutti Beppe nel mentre da me Armando soprannominato Tuscanel de Goma era un idraulico abitava in Toscana ma era originario di Cardano al Campo in provincia di Varese noi lo scherzavamo spesso ciò nonostante lui ci voleva bene ed era contento della nostra allegra compagnia devo dire la verità non so esattamente perché ma dopo la chiacchierata in assemblea l'atmosfera era serena mi sembrava già di conoscerli tutti da tanto tempo e il mio inserimento mi era sembrato notevolmente facile insomma mi sentivo già tra amici la loro gentilezza e disponibilità mi metteva a mio agio tanto da permettermi subito qualche battuta spiritosa ed entrare così in sintonia con loro incredibile ma vero la mia crescita nei rapporti con la scuderia Ferrari iniziava a prendere consistenza anche il mio piccolo museo di cimeli Ferrari aveva trovato l'infa vitale per un suo notevole arricchimento oltre ai soliti modellini in commercio grazie alle frequenti visite a Maranello davo impulso ad una piccola quanto rara collezione in scala 1 a 43 come si sa acquistandone un pezzo ogni tanto non ci si accorge di spendere ma quando poi osservi la collezione che va completandosi ti rendi conto oltre all'interesse di aver accumulato un certo valore insieme ai modellini di auto spesso mi omaggiavano di oggetti cult a titolo d'amicizia e ringraziamento soprattutto Valerio il quale era solito ripetermi questo materiale è da buttare via non serve più ed è inutilizzabile tu che sei un grande appassionato te lo meriti e lo terrai sempre come fosse una reliquia ma mi raccomando i pezzi che ricevi da me tienili per sempre e nel modo più assoluto non venderli non renderli oggetto di mercimonio parole sante e così un pezzo alla volta mi sono ritrovato ad avere una discreta rassegna di cimeli di Formula 1 trascorsero un paio di settimane e finalmente arrivò la convocazione scritta per il fatidico giorno della firma dell'atto di fondazione del Ferrari Club Italia previsto per il 27 aprile 1987 quella data rimarrà storica per la stampa ma soprattutto memorabile per me il mio primo grande pensiero cosa mi metto non sono mai stato un tipo da giacca e cravatta in quell'occasione era d'obbligo esagerare per cui con la mia fidanzata Anna andai a Varese in centro per cercare un abito adatto in uno dei negozi più belli della città con grande foga ma tutto sommato buon gusto almeno credo cercai il vestito migliore una camicia bianca e una cravatta costosa firmata con venature sul viola colore preferito di Enzo Ferrari scarpe rigorosamente nere e il gioco era fatto porca miseria avevo speso un capitale ma un'occasione così era per me irripetibile ed unica per cui ne valeva proprio la pena telefonai ad Armando ci accordammo per la partenza alla volta di Maranello e via verso la prima fondamentale tappa di questa nuova grande avventura pensare di vedere e stringere la mano al grande Drake l'uomo per me e per molti appassionati come me più famoso al mondo era sognare ad occhi aperti ma ho il sospetto senza offesa che forse voi non vi rendete conto di cosa significasse inutile ricordarvi chi ero cosa facevo e dove stavo andando non ci credevo nemmeno io uno spettacolo immaginario un film no l'occasione della vita che stava per essere raggiunta arrivati a Maranello passiamo prima a salutare nel suo ufficio Valerio Stradi il quale guardandomi bofonchiò ma come fai ad andare dal commendatore senza avere una cravatta della Ferrari io che avevo speso un occhio della testa anche per la cravatta mi sentii in imbarazzo lui sorrise aprì un cassetto e mi regalò la cravatta ufficiale Ferrari di colore azzurro con un piccolo cavallino nero adesso sei perfettamente a posto possiamo andare giungemmo alla portineria del reparto corse chiaramente sapevano già tutto un lasciapassare personale e il portinaio ci accompagnò nell'ufficio del commendatore la porta si aprì mamma mia che emozione era proprio vero era lì ad aspettarci insieme ad alcuni amici già arrivati un cenno di saluto con la mano un sorriso simpatico e curioso quasi provocante vi assicuro di nascosto mi sono dato un pizzicotto per rendermi conto se tutto era vero che male e quanto era vero dopo circa una decina di minuti e quattro chiacchiere tutti in silenzio si inizia la conferenza stampa sembrava davvero il primo ciacche di un film che per me non è ancora finito a tutt'oggi presenti i giornalisti delle migliori testate sportive i responsabili per l'immediato comunicato stampa e tocca a lui il grande Enzo Ferrari pensate la mia posizione poteva essere paragonata ad una pole position ero proprio seduto davanti a lui quando parlava sembrava parlasse sempre con me con la scusa dei suoi occhiali scuri non si capiva esattamente dove guardasse di sicuro lui guardava e scrutava tutti le sue parole erano come il rombo dei suoi motori sincere concentrate misurate oserei dire persino pungenti ed acute al punto giusto la volontà di creare questo Club Italia con sede presso la fabbrica Ferrari era una scelta ben studiata devo dire che Sergio Cassano fece un ottimo lavoro per arrivare a questo traguardo coadiuvato dai vari personaggi quali Valerio Stradi Franco Gozzi e Luca Matteoni farsi aprire le porte per mezzo di quelle amicizie e ricevere l'onore che rimarrà nella storia di essere definiti tutti noi dall'ingegnere sacerdoti dei motori è stata una soddisfazione indescrivibile da quel momento facevamo parte integrante della storia della Ferrari prima di dedicare il tempo necessario all'intervista richiesta dalla stampa mi ricordo perfettamente una sua frase molto importante sulla quale ho derivato il mio modus vivendi come uomo e come imprenditore fino ad oggi e per sempre ricordatevi tutti io vi ospito a casa mia avrete un ufficio e tutto ciò che vi serve per lavorare con la Ferrari avrete prima di tutti in visione le auto nuove per poterne capire meglio le loro caratteristiche e divulgarle alla clientela abbigliamento sportivo per distinguervi una sola cosa vi chiedo non approfittate o speculate né in nome né per conto della Ferrari per me era come un comandamento il primo da seguire e l'ultimo da dimenticare vi assicuro non ho mai tradito la Ferrari nelle persone che mi hanno permesso di raggiungere tale soddisfazione mi ricordo la figuraccia di un giornalista appena dato il via alle interviste ecco una prima domanda e come sua consuetudine una risposta di poche parole secche precise e pungenti di verità a volte amare di realtà vissuta gli chiese commendatore ho sentito che tra qualche tempo inaugurerete il museo Ferrari ho sentito anche che purtroppo siete alla ricerca di tutti i modelli costruiti e prodotti ma perché una persona attenta come lei non ha tenuto via una macchina per modello adesso avrebbe tutta la produzione al completo piccola pausa e tremendo silenzio la sua risposta non si fece attendere vede caro giornalista non so chi sia lei ma le macchine che costruivo a quel tempo le dovevo vendere e al più presto per recuperare i soldi necessari alla conduzione della nostra piccola fabbrica artigianale ricordo persino una volta di aver impegnato la borsetta che avevo regalato a mia moglie e ci teneva molto aveva manici d'oro ma il ricavato provvisorio mi serviva per pagare gli operai si figuri se a quel tempo potevo pensare di tenermi una macchina ferma in attesa di esporla in un museo come dice lei e poi si ricordi nel museo ci vanno le cose vecchie e morte le mie macchine non moriranno mai e la struttura che faremo in collaborazione con il comune si chiamerà solo galleria Ferrari un silenzio gelido faceva da padrone per fortuna sdrammatizzò sempre lui con un sorriso non abbiate paura avanti con un'altra domanda per tutto il tempo il mio pensiero ricorrente fu quello di farmi fotografare con lui per documentare ad memoriam quell'episodio storicamente importante a cui partecipai e che ricordo mentre tutti andavano a salutarlo io avvicinavo il fotografo ufficiale e gli chiesi se mentre salutavo Enzo Ferrari mi poteva fare una foto mi disse le foto gli danno fastidio i flash lo disturbano io il mio lavoro l'ho terminato non mi arresi questa occasione era per me l'occasione della vita senta non è un problema il flash se può faccia uno scatto tanto il ricordo deve essere solo mio anche se viene male non mi interessa io oggi so di essere stato qui con lui e la foto me lo ricorderà per sempre cerco volutamente di aspettare fino all'ultimo tenetevi forte ma proprio forte arriva il mio magico e stratosferico momento il tanto sospirato incontro solo con lui mi strinse la mano avevo quasi le lacrime agli occhi dalla commozione che sensazione meravigliosa avevo i brividi in tutto il corpo mentre ci scambiavamo il saluto con lo sguardo cercai il fotografo per immortalare questo momento unico e straordinario nel frattempo pensate mi ringraziò lui e mi disse giovanotto conto su di lei che mi sembra tra i più giovani so che siete veri appassionati e brave persone mi raccomando rispettate la Ferrari io lo rassicurai dicendogli che il mio impegno sarebbe stato il massimo e che non lo avrei mai deluso per dare più tempo al fotografo cercai di intrattenermi ancora un po' con lui manifestando la mia gioia e felicità di quel momento l'incredulità nell'essere lì davanti a lui permettendomi anche di ricordare un grande pilota il mio idolo personale e dei tifosi la passione delle folle che assiepavano i circuiti il re delle partenze mozzafiato insomma l'ormai scomparso e rimpianto Gilles Villeneuve pensate fino a quel momento non ci eravamo ancora staccati dalla stretta di mano a citare quel nome aumentò la sua stretta e mi disse il pilota che lei ha nominato è stato un grande anch'io ho voluto molto bene a Gilles e mi manca finalmente lasciai la sua mano e con il suo sorriso modenese che mi accompagnava mi allontanai e raggiunsi il fotografo il quale confermò d'aver fatto una foto senza sapere come era venuta non importa gli dissi anche se tutta nera so che sono io grazie ma grazie davvero di cuore sarà per me la foto più bella della mia storia con la Ferrari e con il suo ineguagliabile fondatore usciti dall'ufficio del commendatore mi fermai a ringraziare gli uomini della Ferrari in special modo Franco Gozzi Pietro De Franchi e Sergio Cassano il mio inserimento in questo consiglio dava un premio inaspettato al mio grande amore per la Ferrari mi caricava di orgoglio e di forza per dimostrare il massimo di quello che potevo e sapevo fare ma la mia mente ritornava costantemente a quella foto testimonianza di un evento per me molto particolare il fotografo dopo averlo salutato mi disse le farò sapere cosa ne è uscito di quella foto attraverso De Franchi il pensiero e l'attesa erano estenuanti ma finalmente arrivò la telefonata di Pietro Mauro mi ha chiamato il fotografo chiedendomi il permesso di stampare la tua foto mi ha detto anche che non è venuta molto bene per mancanza di luce ed è un po' mossa risposi con poco fiato in gola quando posso vederla mi rispose tranquillamente alla prossima riunione senza problema il primo impegno del consiglio fu la partecipazione onorevole alla organizzazione e presentazione ufficiale della Ferrari F40 un super bolide dalla forma e dalle prestazioni mai viste creato per festeggiare i primi 40 anni della fabbrica quando vidi in anteprima la Ferrari F40 fu un colpo di fulmine nei mesi precedenti avevo visto più volte i prototipi camuffati per le strade di Maranello e già mi sembravano belli le linee davvero corsaiole armoniose e grintose pensare di possedere quella macchina era troppo il prezzo era per me impensabile e irraggiungibile però sognarla non costava nulla chissà la mia vita era costellata di grandi e ragionevolmente irrealizzabili sogni quello fra tutti il più evanescente c'era una certezza immediata partecipare alla giornata della presentazione fu indimenticabile mi ritrovai vicino a persona del calibro dell'ingegnere Sergio Pininfarina modellatore e disegnatore di molte auto e delle più belle Ferrari il figlio di Ferrari signor Piero il dottor Buzzi responsabile unico della Malboro sponsor sostenitore della squadra corse Formula 1 e tanti altri personaggi del mondo dello sport dello spettacolo e del giornalismo internazionale il mio piccolo ma importante compito era quello di aspettare un cenno da Sergio Cassano e farmi trovare all'entrata per accompagnare il pilota di Formula 1 Ferrari Gerald Berger in sala presentazione sì sì avete capito bene ma ci pensate e anche di quell'episodio ho la prova fotografica che vi mostrerò nel libro la mia avventura in stretta collaborazione con la Ferrari iniziò così con un incarico banale ma per me preziosissimo il tutto avvenne talmente in fretta che mi sembrò già super collaudato e preparato nei minimi dettagli e non era vero al termine della presentazione dopo i convenevoli complimenti e saluti varcammo la soglia dell'uscita io e l'allora amico Gianni di Gavirate portato con me perché grande tifoso e appassionato meritevole di tanto onore trovammo una folla da stadio un corridoio di persone che chiedevano di acquistare i pass d'entrata per ricordo il dépliant di presentazione o quant'altro avessimo nelle nostre mani pensate saluti e foto a tutti noi che percorrevamo a quei pochi metri che onore indescrivibile mai provato nella mia vita credetemi per la prima volta mi sono sentito qualcuno senza falsa immodestia forse anche un po' importante una sensazione magica oserei dire mutuando una frase pubblicitaria ricorrente dagli schermi televisivi di allora provare per credere l'entusiasmo dell'amico Gianni era al settimo cielo come lo è stato in tante altre occasioni uniche e irripetibili accompagnandomi sempre con lo spirito di un grande compagno d'avventura peccato ma davvero peccato in pochi anni averlo perso ma soprattutto aver dovuto subire anche cattiverie falsità dicerie ingiuste e gratuite addirittura coinvolgendo altri amici porca miseria non meritavo tanto anzi io con lui sono sempre stato un vero amico sincero perché succedono queste cose le delusioni alla fine sono positive ti aiutano a imparare e a rinforzare il carattere la vita deve continuare e il tempo come si suol dire è medico e verità in stretta correlazione con la presentazione della nuova F40 ci venne affidata l'organizzazione della maxifesta dedicata al 40esimo anniversario della Ferrari presso l'autodromo di Imola dovevamo invitare tutti i piloti Ferrari F1 sport e prototipi una cerimonia particolare per festeggiare i grandi successi dei primi 40 anni della rossa Sergio Cassano era davvero un ottimo organizzatore preparava meticolosamente tutte le mansioni ci dava gli incarichi chiedeva la massima collaborazione da ognuno di noi e la precisione era la sua filosofia di vita pensate solo immaginare di conoscere tutti i piloti in vita della Ferrari era una soddisfazione mai e sottolineo mai sperata gli inviti erano partiti tutti nel giro di pochissimi giorni arrivarono le adesioni avevamo messo a disposizione il biglietto aereo l'hotel a 5 stelle e quant'altro avessero avuto bisogno ricordo che alcuni di essi confermando la presenza chiesero il biglietto di prima classe e la suite invece la signorilità di Mario Andretti andava ben oltre superava e spiazzava tutti i suoi colleghi e anche noi confermava il suo arrivo ma pretendeva di farsi carico personalmente di tutto per lui era un grande onore essere chiamato a una festa Ferrari così importante e non c'era bisogno di gravare sulle spese per poter avere la sua presenza meditate gente meditate fin da questa prima manifestazione ufficiale mi era dato di imparare come ci si dovesse muovere per organizzare feste di cotale dimensione e la raffinatezza di gesti dimostrata da Andretti mi faceva capire ancora meglio che era più che corretto il motto signori si nasce e non si diventa ne ho fatto buon tesoro in tutti questi anni il giorno precedente la manifestazione eravamo già in Ferrari a lavorare e preparare al meglio l'arrivo dei piloti in quella occasione ricordo la visita gradita del magnate giapponese Iramatsu grande tifoso e prezioso collezionista di auto Ferrari ci fece simpaticamente anche delle foto mentre lavoravamo per poi pubblicarle insieme a un articolo a commento sul giornale giapponese del suo club stavo arrivando anche in Giappone cosa volevo di più finalmente dopo tanti preparativi la famosa giornata era arrivata un successo di pubblico strepitoso pensate i posti in tribuna erano esauriti la presenza di tutti i piloti Ferrari era straordinaria dai più giovani a quelli più anziani che spettacolo meraviglioso per non parlare dei prototipi delle Formula 1 una festa così non si era mai vista io avevo l'onore di aver partecipato all'organizzazione di questo unico evento mondiale nella storia Ferrari ricordo un simpatico aneddoto per l'occasione mi feci preparare alcuni mini poster della giornata dagli amici della parapubblicità di Solbiate Arno che per la circostanza avevano ricevuto l'incarico di fare gli adesivi dei numeri per le vetture della manifestazione pensate il mitico 22 sulla 212 Inter lo attaccai personalmente promettendo a Rino Luigi e Michele di riportarne uno con tutte le firme dei partecipanti al ricordo con destrezza e gentilezza facevo firmare a tutti quei poster al momento della firma il pilota Luigi Chinetti ormai ultraottantenne mi disse giovanotto per firmarle questi sei poster ci vuole un po' di tempo per la mia tenera età se lei è così gentile ad attendere pazientemente io li firmo tutti molto volentieri mentre li autografava mi commuovevo la sua lentezza era pari a quella di un bambino alle prime armi con le parole è stato magnifico e custodisco gelosamente quel ricordo nel mio piccolo museo e chiaramente nel mio cuore mi ricordo anche una tremenda figuraccia alla mattina facevamo girare i possessori con le proprie auto al termine iniziavano i preparativi per far girare i prototipi e le Formula 1 storiche guidate dai protagonisti di allora durante questa fase si avvicinava all'entrata della pista una Ferrari 288 GTO targata Monte Carlo l'unica mia vera attenuante era il sole in faccia il pilota mi faceva segno che doveva entrare io gli risposi che il turno era finito per i privati lui insisteva e io ancora cortesemente gli risposi di no mentre mi spostavo per avvicinarmi e rispiegare ancora la cosa purtroppo non voleva capire lui abbassò il finestrino e vergognosamente mi trovai davanti il pilota Michele Arboreto il quale sorridendo mi disse scusa posso entrare che figura mi metto le mani nei capelli e chiedo umilmente venia con il sole non avevo avuto la possibilità di riconoscerlo lui continuò a ridere mi salutò e mi disse ci vediamo dopo fammi uscire però la personalità e la semplicità di quest'uomo erano straordinarie un altro vero signore pensate all'uscita dietro mia spudorata richiesta e persino sceso dalla macchina per fare con me la tradizionale foto ricordo grazie Michele sei stato e sarai per sempre un grande nei nostri cuori e nella nostra memoria di tifosi quella giornata mi riservava ancora un'emozione non preventivata dopo aver trascorso ore ed ore con tutti i piloti prima di tornare a casa mi chiamò De Franchi e mi disse Mauro ho quella cosa che desideravi tanto eccola la fatidica foto con Enzo Ferrari mamma mia era arrivato il momento era un po' mossa ma era bellissima un ricordo unico mai e poi mai avrei pensato che quella foto nel tempo sarebbe diventata l'affortunata e reale copertina di questo libro ringraziai tantissimo Pietro e il fotografo e chiesi subito il permesso di potermi fare un piccolo poster volevo quel ricordo incorniciato nel mio museo il permesso venne accordato la storia di questa foto non finisce qua alla prima riunione trovo il poster pronto con la mia solita faccia tosta mi recco nel reparto corse e chiedo alla segretaria del comendatore l'allora gentile e simpatica Giuliana la finitura di questo mio miracolo desideravo tanto il famoso autografo in viola di Enzo Ferrari alla mia richiesta mi rispose subito Mauro non sarà facile il comendatore non sta molto bene in questi giorni di conseguenza non firma volentieri tranne cose che riguardano il lavoro comunque per la tua simpatia e amore per la Ferrari ti prometto che provo a parlargliene dopo circa una ventina di giorni mi chiamò la Giuliana e mi disse Mauro quando vieni a Maranello per la riunione del Ferrari Club Italia avvisami che ho fatto quella cosa ma devo dartela di persona c'è una spiegazione particolare di contorno alla questione ok rispondo sarò lì sabato prossimo e ti confermo l'appuntamento al bar vicino alla fabbrica per le 8 e 30 beh inutile dirvi i miei pensieri e la gioia per il risultato ottenuto mi incuriosiva comunque quello che avrebbe dovuto dirmi ma sinceramente non immaginavo proprio nulla puntualissimo mi presento al bar e trepidamente attendevo il suo arrivo baci e abbracci come sempre e venendo al dunque mi consegnò il poster l'emozione saria alle stelle sentì uno strano calore dentro il mio corpo guardai e felicemente scoprì la meravigliosa firma del Drake nel classico colore viola il bello doveva ancora arrivare Giuliana sorrideva e non parlava chiesi spiegazioni e mi disse tieniti forte il commendatore l'altra mattina è arrivato di buon umore e mentre mi faceva qualche complimento mi sono ricordata immediatamente della tua foto quello poteva essere il momento propizio per chiedergli il suo autografo quando gli ho presentato il tuo poster è rimasto in silenzio per un attimo e poi sospirando disse ecco perché questo ragazzo nel salutarmi non andava mai via raccontandomi la sua grande passione per la Ferrari stringendomi la mano e mai lasciandola cercava di mettersi in posa per il fotografo un attimo ancora di silenzio e mi disse sai l'autografo lo faccio volentieri perché è stato l'unico del gruppo dei fondatori del club intelligente a farsi fotografare con me un'occasione così non gli ricapiterà mai più forse saranno anche le ultime mie foto in quel momento la mia commozione era un livello indescrivibile ero contentissimo che si fosse ricordato di me emozionato per le sue sincere parole tanto sincere che sapeva di essere già malato il fatto con lui si sarebbe dimostrato a breve vergognosamente tiranno il suo complimento mi dava la forza di sorridere per l'accaduto dentro di me lo ringraziavo infinitamente ero davvero felice e le sue parole non le scorderò mai più quante piccole scalate nella mia vita devo dire di essere stato fortunato certo le occasioni vanno comunque create alcune volte forzate e se deve funzionare a tale proposito in confidenza e amicizia parlando del più e del meno con l'amico direttore commerciale Carlo Tazioli avendo saputo di alcune problematiche di assistenza nel Varesotto esprimevo il mio grande ed ultimo sogno nel cassetto avere l'autorizzazione per l'assistenza alle vetture Ferrari l'argomento non era dei più facili mi spiegò che a quel momento non c'era la possibilità e poi come da accordi commerciali era la concessionaria di zona a scegliere e nominare le officine che servivano questa è stata una richiesta scherzosa riproposta altre volte ma l'ultimo dei miei veri pensieri seri era quello di poter arrivare a tanto il tempo trascorreva veloce denso di appuntamenti di feste manifestazioni e quant'altro serviva a trasmettere ai clienti Ferrari il sentimento della vicinanza della casa madre di Maranello in fondo il nostro compito e la nostra missione era fondata su questo importante principio voluto dal grande suo fondatore il momento era straordinario tutto andava bene ma proprio in questi casi bisogna aspettarsi e prepararsi alle maledette sorprese la salute precaria e la vigliacca malattia non volevano lasciare in pace il commendatore tanto che dopo un periodo di estenuante sofferenza decidevano di portarselo via per sempre l'uomo che dal nulla aveva creato il grande mito dell'automobile la Ferrari cessava di vivere lui aveva dato da sempre anima e corpo sacrifici tanti rischi tante perdite di ogni genere anche familiari purtroppo silenziosamente se ne andava e con lui scompariva una parte importante la migliore del vero credo Ferrari il segreto e la discrezione della sua morte rivelavano la sua estrema semplicità noi siamo stati tempestivamente avvisati e pregati di mantenere le sue volontà nella compassata espressione di anonimato e silenzio lo abbiamo rispettato dopo qualche giorno dalla sua scomparsa mi sono recato in forma privata al cimitero per portargli il mio ultimo e personale saluto ho pregato l'ho ringraziato e ho pianto come se fosse un mio familiare anzi in quel momento era molto di più al ritorno continuavo a pensare cosa sarebbe stato dopo di lui la fabbrica le corse noi del Club Italia pensavo a tante cose ma desideravo ricordare tra le mie lacrime il suo cordiale sorriso modenese i suoi occhiali scuri e la precisione delle sue parole a volte pungenti a volte severe ma cordialmente misurate come del resto rispecchiava il suo carattere per fortuna nel nostro destino c'era ancora posto a tante cose belle il presidente Sergio Cassano insieme a tutto il nostro consiglio decidevamo con una semplice investitura di nominare successora la presidenza onoraria al nostro club il figlio Piero anche in quell'occasione la fortuna non mi risparmiava nella combinazione dei posti a pranzo mi permetteva di sedere vicinissimo ai due presidenti le domande di Sergio erano incalzanti le risposte di Piero semplici pacate e curiose la sua sensibilità i suoi aneddoti e le sue verità a volte toccanti erano per me un'occasione importante di cultura da inserire nel mio bagaglio personale di esperienza e conoscenza intorno alla storia della Ferrari ma ci pensate se fossi andato a casa a raccontare agli amici quanto mi stava succedendo mangiare nella saletta magica del ristorante Cavallino ascoltare le parole ed alcuni curiosi fatti della storia del figlio di Ferrari che sinfonia per le mie orecchie mi reputavo fortunatissimo oltre a tutto questo avevamo persino la possibilità e la funzione istituzionale di conoscere in anteprima le novità prossime e future in uno con la possibilità di vedere in anteprima i nuovi prototipi ciò al fine poi di promuovere verso la clientela la voglia di entrare in possesso al più presto di questi favolosi gioielli motoristici non ho mai raccontato nulla agli amici del mio paese nemmeno ai pochi intimi viaggiavo sempre con il mio camion immerso nel mio rispettoso lavoro e all'occorrenza infilavo giacca e cravatta e via in Ferrari a quel tempo curavamo anche tutti i Ferrari Club italiani io Armando e il Bruno Maran eravamo stati nominati responsabili di tutte le manifestazioni italiane in molti casi eravamo coadiuvati anche dall'amico Corrado Malaspina nostro commercialista interno anche lui era uno come me dei più giovani ragazzo molto sincero simpatico e soprattutto vero abbiamo fatto sempre un buon lavoro cercando di aiutare tutti i club che volevano organizzare le manifestazioni dedicate al cavallino una nostra prerogativa era quella di dare i permessi selezionando le manifestazioni con maggior interesse sia turistico che sportivo tenendo ben presente i costi che andavano sostenuti essere possessore di una Ferrari non significava essere per forza ricco conoscevo tantissimi ferraristi che avevano coronato il loro sogno a suon di sacrifici per cui volevamo ci fosse un parametro accettabile nel differenziale tra il costo e l'interesse per la festa per noi come del resto per i responsabili della Ferrari era importante trattare tutti i clienti allo stesso modo cercando di dare loro il massimo desiderato e ottenendo la stima e la fiducia meritata e voluta da Ferrari pensate a quel tempo avevo lasciato il consiglio direttivo del Ferrari Club Varese per incomprensioni e poca chiarezza nella gestione nonostante tutto mi comportavo educatamente e con correttezza dando al club la possibilità della candidatura per organizzare il raduno nazionale a Varese e addirittura non trascurando l'eventualità che potesse vincere il premio come miglior manifestazione dell'anno in corso la mia lealtà è sempre stata un punto fermo della mia personalità alcuni uomini che ho trovato sul mio cammino non hanno fatto altrettanto con me anzi voi per invidia o per altro si sono divertiti a fare commenti e basse insinuazioni alle mie spalle inventando dicerie ma non trovando poi nessuna conferma o testimonianza pro reo un mio motto al quale ho fatto riferimento da sempre è le parole servono solo se a seguire ci sono fatti concreti e comprobabili con la carta del mio modo di essere ne sapevano qualcosa gli amici Giorgio Ragni e Daniele Scuttari Daniele e sua moglie Cristina hanno vissuto con me tanti periodi e tante verità seguite sempre dai fatti concreti lui è stato ed è un mio amico speciale mi ha difeso quando necessario e ha sempre creduto nella mia persona grazie sei un amico scusate queste mie digressioni ma sono simpatiche e doverose da citare la mia vita come di sicuro quella di molti altri non è stata facile a volte resa più complicata dalle invidie ignoranti e per fortuna invece semplificata da rapporti umani veri e sinceri oltre alla sezione manifestazioni e raduni nel nostro club c'era una vera e propria squadra corse i responsabili erano Franco Meiners Renato Carrera Robotti Maurizio Armando e il pilota Corrado Cuppellini quest'ultimo altro vero amico pilota gentleman driver nel vero senso della parola mi voleva bene e mi stimava al punto tale che al termine di una nostra assemblea per i soci che si svolgeva a Modena presso l'hotel Raffaello insisteva nel volermi far entrare anche nella sezione agonistica e corsaiola beh per essere un semplice camionista non era niente male qualche volta sono andato a le gare partecipando con le Ferrari storiche i nostri piloti David Piper e Corrado Cuppellini erano imprendibili invincibili una volta correvamo a Imola in concomitanza della Formula 1 avendo la possibilità e i famosi pass d'entrata io invitavo a venire con me l'amico Ezio Sacrini come ho detto in precedenza grande appassionato di Ferrari e di Formula 1 io supponevo di fargli una grossa sorpresa nell'invitarlo a visitare i box invece la sorpresa è grande me la fece lui dopo aver visto le prove ufficiali di Formula 1 iniziavano le nostre con le auto storiche alla fine dopo qualche foto di rito con i piloti di Formula 1 a spasso per i paddock partivamo per andare a trovare un suo amico direttore d'hotel nei pressi di Imola lungo la strada mi svelò la sua carrabbata e mi disse Mauro verso le 18 l'appuntamento con questo mio amico e tieniti forte prendiamo un aperitivo con Ayrton Senna tutto poteva essere vero però questo mi sembrava troppo arrivati in hotel chiedo di andare in bagno e neanche a farlo apposta mentre cerco di uscire spingendo la porta per aprirla qualcuno fa la stessa cosa dall'altra parte per cui per un attimo nessuno dei due riesce nel suo intento tolgo la mano e aspetto e chi entra pensate che caso compare Gerald Berger mi guarda mi vede vestito da ferrarista sorride e mi dice in un italiano maccheronico questa volta ho vinto io mi strizza l'occhio e se ne va esco tutto contento per l'incontro appena fatto quando solo dopo pochi minuti di attesa spunta l'amico di Ezio con Ayrton Senna ero tremendamente emozionato e felice di fare la sua conoscenza ci presentiamo ci accomodiamo e prendiamo il fatidico aperitivo lui parla un italiano comprensibile scherza sulla Ferrari io colgo l'occasione e gli chiedo Ayrton quando vieni a correre in Ferrari lui mi risponde dapprima con un sorriso poi toccandomi il ricamo sullo scudetto della mia camicia sussurra magari prima di quanto tu pensi e riprende a sorridere la mia verità su Senna fino ad allora era che in televisione mi sembrava arrogante e presuntuoso del tipo spostati che passo io nella realtà dopo averlo conosciuto mi sono innamorato del personaggio semplice gentile vestiva in modo normalissimo con un paio di scarpe da tennis bianche jeans e una t-shirt bianca tenete conto che a quel tempo aveva ai suoi piedi tutto il mondo automobilistico sportivo ma la sua naturalezza lo contraddistingueva da tutti in quello stesso anno il destino voleva farmi sapere la reale possibilità di Ayrton in Ferrari in occasione del Gran Premio di Monza il sabato dopo le prove ufficiali mi telefonava un amico medico confermandomi di aver visto Ayrton Senna con alcuni uomini Ferrari in una clinica milanese per una visita preliminare chissà se quel destino benevolo avesse avuto il suo seguito forse poteva essere ancora tra di noi ma accadde qualcosa in quei mesi e la firma del contratto fu rimandata Ayrton Senna sei stato un campione di auto ma anche di vita non ti scorderemo facilmente anzi nel cuore di tutti gli appassionati di Formula 1 resterai per sempre un numero 1 un altro episodio simpatico e curioso che si verificò in quell'anno grazie al fatto di essere un socio fondatore del Ferrari Club Italia fu che nell'occasione dei preparativi dell'assemblea annuale che si svolgeva presso l'hotel Raffaello di Modena andando avanti e indietro per le scale seduto in una poltrona vidi un personaggio televisivo molto importante e famoso non esitai a dirlo a Pietro De Franchi e ad Armando tutti insieme animati da coraggio e curiosità senza trascurare una buona dose di sfacciataggine ci siamo avvicinati e abbiamo chiesto di poterlo salutare il personaggio in questione era lui avrebbe detto di sicuro boni boni non fate chiasso il grande e famoso Maurizio Costanzo una volta avvicinato è stato gentilissimo e cordiale incredibile in televisione sembrava un gigante e molto serio alcune volte severo nelle sue interviste invece le sue dimensioni erano modeste il carattere davvero gioviale e con la sua simpatia romana ci invitava al suo programma nella capitale chiedendo in cambio scherzosamente di voler provare una Ferrari subito mi prestai alla richiesta offrendomi personalmente purtroppo l'occasione non c'è mai stata o forse non è stata mai cercata chissà se avrà ancora voglia di fare un giro in pista con me io sono sempre disponibile se mi chiamasse il nostro club stava diventando davvero importante in tutto il mondo ormai la sua gestione era come una piccola azienda con le problematiche del caso ricordo un sabato in una riunione a Maranello iniziata nei migliori dei modi sì pensate eravamo nella torretta centrale della fabbrica dove di solito si svolgevano le riunioni importanti comprese quelle della Formula 1 e quindi con i massimi dirigenti mi ritrovavo seduto e per la prima volta in vita mia in una vera sala riunioni avevo davanti a me un telefono una bottiglia d'acqua e tanto sapore rosso e magico nell'aria purtroppo ricordo di non essere stato d'accordo e non solo io circa la conduzione le modalità e il suo funzionamento tanto da indurmi dopo un'accesa discussione a prendere in serio esame l'eventualità di defilarmi da quella situazione non consona alla mia persona rimanendo fedele alla promessa fatta ad Enzo Ferrari in questo libro di sicuro dimenticherò qualche persona meritevole lo faccio in buona fede altre invece ho volutamente omesso di nominarle in quanto indegne finte false e molto abili nel mantenere trasparente solo la propria immagine al mio attivo avevo 5 anni di permanenza nel club mentre tornavo a casa in macchina non pensavo ad altro lascio o non lascio dopo aver avuto la fortuna di essere uno dei prescelti nella fondazione di quel club ormai così importante che fare la domenica mattina dopo una notte insonne mi ritrovavo seduto sulla mia scrivania con un foglio di carta per tentare di scrivere le mie dimissioni come consigliere al club facendo una panoramica generale della situazione ripercorrendo tutti gli anni trascorsi nel club tutte le cose uniche e belle decidevo con le lacrime agli occhi di confermare quanto pensato e ripensato nella notte scrivevo davvero le dimissioni dichiarandomi di essere sempre stato orgogliosamente onesto e purtroppo adesso felice di non voler più far parte di quel club pronte le quattro lettere le spedivo una al presidente Cassano una alla direzione commerciale una a Valerio Stradi e una a Giorgio Ferri direttore della pista di Fiorano e nuovo responsabile e coordinatore di tutti i Ferrari Club del mondo la mia decisione fu accettata dal consiglio ero così ormai escluso da tutti e da tutto volontariamente uscivo dalla Ferrari dalle mie abitudini di andare in fabbrica perdevo ogni informazione e tutto tornava ad avere un sapore normale come tanto tempo fa i primi giorni dopo la mia lettera di dimissioni sono stati duri rimpiangevo il mio mondo dove ero stato incredibilmente qualcuno e per poco tempo trascorrendo tanti indimenticabili momenti felici Ferrari assistenza promozione e attività sportiva la mia vita di oggi dopo circa due mesi e mille ripensamenti una mattina mi squillò il telefonino e con immensa gioia senti la voce di Carlo Tazzioli direttore commerciale Ferrari che mi salutò cordialmente dicendomi di aver ricevuto e letto con molta attenzione la mia lettera con grande stupore mi confessava di essere dispiaciuto della mia decisione e mi convocò presso il suo ufficio in sede Ferrari per una chiacchierata ringraziando accettai cortesemente il suo invito pregandolo di non chiedermi nulla non era mia abitudine esternare commenti sulla mia decisione egli accettò la mia posizione e mi riconfermava la voglia di vedermi al più presto a Maranello stabilito il giorno mi organizzavo con il lavoro spostando una consegna da recuperare il sabato successivo partivo così felicemente alla volta della Ferrari quel mondo mi mancava davvero molto e non vedevo l'ora di riassaporare il profumo della fabbrica e il clima di Maranello arrivato mi annunciavano e dopo tre o quattro minuti ecco arrivare l'amico Carlo baci e abbracci era un po' che non ci vedevamo mi fece accomodare nel suo ufficio e dopo aver scambiato le classiche domande di rito come va tutto bene la famiglia il lavoro eccetera arriva la sua prima domanda per me inaspettata Mauro come ti ho detto al telefono ho letto la tua lettera mi sono informato devo dirti che rappresentando la Ferrari commerciale seguendo la filosofia del fondatore Enzo Ferrari sono a concederti ciò che hai sempre chiesto e desiderato ti ricordi? vi giuro in quel momento mi veniva in mente solo di aver chiesto di correre per la Ferrari lui si mise a ridere di gusto e disse non sai quanto dovrai correre dopo io vergognosamente non mi ricordavo nulla dissi Carlo non mi viene in mente niente aiutami mi rispose ma come? è da qualche anno che mi chiedi sempre la stessa cosa e ora che è arrivato il momento non ti ricordi pensaci bene non mi hai sempre chiesto di voler essere autorizzato per l'assistenza alle auto Ferrari? un nodo gigante mi si formava alla velocità della luce in gola tanto da non riuscire a parlare immediatamente non capivo più niente risposi Carlo mi stai prendendo in giro no non mi permetterei mai so di certo che sei una brava e onesta persona interpretando la filosofia di Ferrari penso che tu possa essere proprio la persona giusta per questo genere di attività la tua passione ti porterà a fare un ottimo lavoro noi della Ferrari ne abbiamo bisogno i nostri clienti sono il bene più importante per l'azienda tu puoi risollevare una situazione molto negativa venutasi a creare nella tua zona l'emozione la contentezza l'imbarazzo e quant'altro mi portavano a non credere all'accaduto continuavo a ripetere che non mi sembrava vero dimmi che non è un sogno stai tranquillo con tutto il grande lavoro che ti aspetta ti renderai subito conto che è tutto vero ricordo perfettamente di essermi alzato non mi vergogno a dirlo piangendo dalla gioia l'ho abbracciato e baciato come un padre ringraziandolo per la grande fiducia mi disse te lo sei meritato in tutti questi anni considerando poi il tuo coraggio nelle dimissioni hai avvalorato la tua posizione pochi l'avrebbero fatto la dimostrazione di trasparenza e lealtà fanno di te un vero uomo complimenti aggiunse Mauro da oggi in poi sei un collaboratore della Ferrari i miei suggerimenti sono solo questi mi raccomando rimani con la stessa sincera ed onesta passione ricordati di alcune cose importanti quali nel nuovo lavoro dai sempre il massimo l'officina deve essere ordinata e pulita all'altezza del nostro marchio i tuoi meccanici personalmente ben curati come lo devono essere tutte le vetture che usciranno da voi riparate ricordati che il cliente è il bene più prezioso e importante per tutti noi non avevo più parole in quel momento continuavo a ringraziare pensate la mia vita cambiava in modo inaspettato il nuovo lavoro era la mia grande passione il mio sogno forse la mia speranza non ci credevo ancora vi assicuro che alcune volte nonostante siano passati ormai 12 anni mi sembra un magico e grandioso sogno tuttora mi congedavo con la promessa di organizzarmi al più presto rammento le sue ultime parole guarda che ti chiamerai il signor Crepaldi di Milano fammi sapere il prosieguo della situazione buon lavoro ferrarista il viaggio di rientro è durato apparentemente un istante i chilometri volavano le uscite autostradali passavano senza vederle in pochissimo tempo ero a casa a raccontare quanto successo a mia moglie e ai miei familiari la gioia era incontenibile la perplessità e le problematiche del nuovo lavoro incoscientemente erano quasi nulle questi sono davvero momenti in cui avresti la voglia di urlare di gioia e di far sapere a mezzo mondo quello che ti stava succedendo invece con la calma e la semplicità consueta iniziavo a studiare la formula migliore per vendere la mia azienda di trasporti fortunatamente il lavoro andava bene e la società per cui lavoravo era decisamente seria trovare qualcuno non doveva essere difficile dopo un paio di giorni venivo contattato dal signor Crepaldi e invitato ad andare a Milano presso la sua concessionaria per discutere l'accordo di collaborazione il giorno successivo ero di fronte a lui per programmare il tutto mi disse mi hanno già informato della tua persona il tuo passato e la tua grande passione Ferrari devo chiederti che cosa vuoi fare con noi vuoi la vendita l'assistenza la carrozzeria risposi immediatamente senza tentennamenti con una sola parola tutto mi rispose o sei pazzo da legare o milionario la prima risposta ovviamente era quella giusta oggi stesso devo avvisare la Ferrari del nostro incontro se vuoi inizio a dire che ti organizzi per l'assistenza e la vendita poi in un futuro prossimo ne riparliamo volentieri per il resto era fatta adesso iniziava l'avventura in prima persona creare e organizzare dal nulla l'officina nel mio capannone senza trascurare un dettaglio fondamentale la questione economica la fortuna tutto sommato mi ha sorriso ancora in pochi giorni ho trovato un trasportatore di morazzone un certo Tosin Giorgio il quale aveva un figlio di nome Massimo che già lavorava con lui un bravo ragazzo serio e ottimo lavoratore insomma la persona giusta così trovata questa occasione propizia il signor Tosin si decideva ad acquistare l'attività per dare la possibilità a suo figlio di lavorare in proprio rilevando un esercizio già avviato la vendita della mia azienda un mio prestito personale e un cospicuo aiuto dal cugino di mia moglie Stefano sono state le chiavi di volta per fornirmi il sostegno economico per la nuova impresa che mi accingevo ad intraprendere di Stefano non vi ho ancora parlato un ragazzo meraviglioso educato bravo e sempre disponibile ad aiutarmi in tutto la fortuna era che aveva messo via dei soldi e per l'occasione senza la minima esitazione è stato pronto a prestarmi di tutti per aiutare l'impianto della mia nuova attività nel corso degli anni successivi ho avuto modo di ricambiare questo aiuto ciò non toglie tuttavia la mia sincera gratitudine per Stefano e per la sua genuina collaborazione l'unico rammarico personale nonostante fossimo quasi come due fratelli l'essere stati divisi per una strana inconsueta e discutibile combinazione di fatti della vita mi dispiace e a tutt'oggi mi manca molto la sua amicizia gli auguro comunque solo tanta gioia e prosperità se lo merita l'ultima fase forse la più impegnativa per quanto riguarda il lavoro vero e proprio coinvolgere e assumere alcuni dei meccanici che avevano lavorato nell'altro centro assistenza Ferrari ormai chiuso da più di due anni la mia prima scelta è stato il Franco era l'unico a tener testa nel lavoro al suo titolare Scapini più di una volta ho assistito a qualche discussione ed io dall'esterno gli davo ragione nonostante tutto i due si volevano bene e si rispettavano Franco aveva ed ha tutt'oggi un carattere particolare forte pieno di voglia di arrivare e migliorarsi nel suo lavoro è molto bravo preparato attento ad imparare ogni segreto meccanico Scapini con me ne parlava sempre bene mi diceva al gal su caratter ma lei è un bravo mechanic telefonai a Franco chiedendogli di venirmi a trovare a casa dovevo chiedergli alcune cose accettando l'invito una sera arrivò con la sua simpatica moglie Fabiola dopo una breve chiacchierata forse pensò che io gli volessi chiedere un tagliando alla macchina invece presentandogli la lettera mandato per l'assistenza autorizzata Ferrari gli proposi di collaborare con me alle mie dipendenze per costruire insieme qualcosa di grande non gli sembrava vero lo sguardo attonito coinvolto dalla mia energia dalla mia voglia di emergere e di far emergere il marchio Ferrari parlammo tutta la sera Fabiola era contentissima lui un po' scettico certamente lusingato per averlo scelto preoccupato per una recente delusione ricevuta da un'altra officina per lui era stato doloroso ed emotivante quel lavoro iniziato con tanti sacrifici e tante speranze e poi finito così alla fine riuscì a strappare il suo consenso devo dire complice Fabiola non mi rimase altro che programmare tutto quello che serviva per iniziare a costruire la nostra officina ritornai a Milano dal signor Crepaldi e mentre io ero al classico settimo cielo lo trovai tremendamente abbattuto mi ricordo le sue parole prima di concedarmi mettendomi la mano sulle spalle e con la sua voce roca mi disse cerca di fare in fretta a partire con l'officina io non ce la faccio più ti lascerei tutto mi sembri una brava persona e tanto appassionata forse forse sì ti meriteresti davvero tutto fammi sapere quando sei pronto quella fu l'ultima volta che vedi il signor Gastone Crepaldi la concessionaria palesò dei problemi irrimediabili e ben presto chiuse i battenti mi ritrovai solo di quella concessionaria faceva parte un responsabile delle vendite di nome Valerio dell'Acqua un vero e proprio personaggio culturalmente preparato e fortemente appassionato Ferrari era un amico simpatico leale e un po' pazzerello ricordo che per abitudine mi soleva chiamare e presentare quando c'era gente come il solista del Club Italia in ricordo delle mie innumerevoli sgommate alle feste Ferrari in particolare per non dimenticare quella esibizione a Mariluni presso l'eliporto dove gommato direttamente dalla casa Ferrari davo sfogo alle prestazioni mozzafiato della mia testa rossa davanti ad un pubblico straordinariamente ferrarista portando addirittura Pietro De Franchi in auto con il microfono e che spiegava ogni mia mossa ogni marcia e tutto quello che succedeva nell'abitacolo non vi dico le botte in testa che ha preso tra un testacode e l'altro abbiamo terminato in una nubola gigantesca di fumo accompagnata da un applauso interminabile io mi ero proprio divertito nel far divertire il pubblico prima di questa performance di chiusura c'era stata la gara di slalom e velocità in un percorso studiato nell'eliporto in tutta sicurezza avevo portato a termine una bella prova tanto che alle premiazioni risultavo primo della mia categoria e nella classifica assoluta venivo premiato dall'ospite d'onore il batterista dei Pink Floyd Nick Mason era un grande e appassionato possessore di alcune Ferrari stradali e di Formula 1 tra cui la favolosa 312 T3 guidata dall'invincibile Gilles Villeneuve con la quale vinse la sua prima gara nel Gran Premio di Canada del 1978 un'auto progettata dal grande ingegner Mauro Forghieri con un inglese italianizzato formulava questa frase pensate nei primi 5 classificati ci sono naturalmente le F40 che sono attualmente le Ferrari più veloci una straordinaria testa rossa gialla ha rotto l'incantesimo e si è classificata addirittura seconda incredibile ma vero ero io ricevevo con onore la stretta di mano la coppa e i complimenti del batterista di un complesso tra i più famosi al mondo come vedete le soddisfazioni non sono mancate i personaggi conosciuti sono stati tanti e questi ricordi rimarranno sempre con me e mi accompagneranno in ogni momento della mia vita alle volte ricordare fa bene stimola e contemporaneamente rilassa ma soprattutto fa riflettere giusto per non tralasciare nulla sembrava che tutte le cose capitassero con un grande senso logico ed una cadenza quasi programmata in mezzo a tutti questi eventi eccezionali una questione di salute mi preoccupava moltissimo casualmente in un viaggio di ritorno da Casale Monferrato scoprivo di avere un grosso problema alla vista tornato a casa doccia veloce e subito dall'oculista del paese spiegai che mi ero sfregato l'occhio sinistro e mi ero accorto di vedere molto male visita veloce e altrettanto veloce il verdetto è una malattia che era toccono avanzato praticamente non vedevo più dall'occhio sinistro rimedio ormai tardo la lente a contatto rigida oppure mettersi subito in lista d'attesa per il trapianto di cornea porca miseria fino a quel momento non mi ero accorto di nulla sopperivo con la buona vista del destro e così avevo tirato avanti naturalmente cosa fare chiedo aiuto a tutti gli amici che avevo Raffaele Bacegliere mi porta dal suo amico primario dottor Penne di Gallarate il quale dopo la visita e la mia grande insistenza e preoccupazione per il nuovo lavoro di collaudatore della Ferrari gentilmente mi mette in lista in tre ospedali Gallarate Varese e Pavia anche qui la fortuna mi ha aiutato dopo poco tempo vengo chiamato dall'ospedale di Pavia e il professor Aldo Tafi è l'incaricato del trapianto un'operazione nel mio caso dolorosissima purtroppo le cinque punture d'anestesia locale non avevano fatto completamente effetto e non vi dico ho sentito da subito il bisturi tagliare tutto il contorno della mia cornea una volta asportata ho avuto la possibilità di rendermi conto di cosa si vede senza di essa le luci della sala si sono trasformate in una gigantesca fiamma di colore giallo e rosso pochi minuti dopo il professore aveva sistemato la nuova cornea come d'incanto mi ritornava una vista incredibilmente perfetta tanto da sopportare l'operazione e la tortura della cucitura era interminabile e dolorosa i casi della vita da quella operazione è nata una forte amicizia con il professor Aldo Tafi tanto che dopo soli 4 anni di convivenza con la cornea trapiantata perdevo completamente la vista dall'altro occhio e fortunatamente il buon amico Aldo si prendeva cura per trapiantarmi anche l'altra cornea presso l'ospedale di Aosta dove in quel momento era diventato il primario del reparto di oculistica sono stato molto fortunato nel ricevere in donazione questi organi da persone purtroppo alle quali la vita ha offerto una morte prematura il loro gesto è stato grande tanto da sentirmi in dovere di informare i miei familiari che in caso di mio decesso ovviamente il più tardi possibile se in me ci sarà qualcosa di buono è mio desiderio che sia utilizzato per migliorare la qualità di vita di qualche essere umano che ha bisogno di aiuto i miei trapianti sono andati entrambi bene ma l'adattamento delle corne ha portato problemi di astigmatismo e miopia per fortuna prontamente risolti con l'uso del laser non facile perché fatto su organi trapiantati e quindi più delicati da curare il professor Giorgio Paganoni di Bergamo grande amico di Aldo dietro mia insistenza e suo suggerimento fece questi interventi laser fortunatamente conclusi felicemente vi garantisco che la mia vista è tornata quasi come all'origine a tutte queste persone che mi hanno aiutato a risolvere questo importante problema devo la mia seconda vita aver vissuto per qualche anno solo con un occhio non è stato facile considerando il mio lavoro e pensando sempre chissà se poi un giorno tornerò a vedere come prima a questi amici devo personalmente un grazie enorme e mi permetto di ringraziarvi anche per tutte quelle persone che giornalmente curate e ridate la speranza di una vita di buona qualità senza le vostre capacità professionali saremmo persi e non vedenti torniamo alla realtà di quel tempo prima di partire con l'officina ci veniva dato dalla sede Ferrari un piccolo manuale da seguire con le modalità e le prescrizioni per la colorazione dei muri interni bisognava imbiancare e verniciare in modo speciale una parte delle pareti inserendo una striscia di colore giallo Ferrari in mio aiuto veniva l'amico Enrico Grandi anche lui tifoso appassionato e diventato con il tempo anche fortunato e felice possessore di una Ferrari la nostra data prefissata d'inizio era vicina il lavoro ancora tanto per finire tutto in tempo utile l'ultima sera io mia moglie ed Enrico lavorammo fino alle 4 della mattina quasi addormentati e stremati dalla fatica finalmente all'alba completavamo il lavoro di tinteggiatura i nostri primi passi con l'officina iniziarono col disporre i ponti di sollevamento auto con la collocazione dei banchi di lavoro e di quant'altro servisse al funzionamento dell'apparato sostanzialmente stavamo allestendo il nostro nuovo posto di lavoro ormai nel mio entusiasmo avevo coinvolto completamente mia moglie Anna e il mio capo officina Franco questo nuovo lavoro non mi preoccupava per niente e non vedevo l'ora usando un termine calcistico di fischiare il calcio d'inizio durante la crisi della concessionaria milanese venivo esortato direttamente dalla Ferrari ad iniziare al più presto per dare un serio e concreto riferimento nella nostra zona per l'assistenza alle vetture Ferrari via si parte ma la situazione era piuttosto confusa i clienti disorientati le problematiche legate agli ordini eccessivi alle consegne irregolari della 348 la mancanza di un punto di riferimento preciso a cui rivolgersi presso la sede centrale ci portava ad un inizio dell'attività piuttosto disordinato e quindi preoccupante i ferraristi erano decisamente diffidenti per ciò che era accaduto in passato nella zona il presente non era ben chiaro rimanevamo noi nuovi in tutti i sensi semplici ma onesti con una grande voglia di dimostrare di essere all'altezza della situazione e rassicurare tutti con una buona esecuzione delle riparazioni sulle auto finalmente abbiamo il via ufficiale direttamente dalla Ferrari l'officina è in piena attività il nostro pensiero era iniziare e muovere i cosiddetti primi passi e appena possibile organizzare una degna inaugurazione per pubblicizzare il nostro punto di assistenza mi dedicavo a far telefonate agli amici e conoscenti lo scopo evidente la divulgazione della notizia circa l'apertura della nostra nuova officina autorizzata Ferrari ancora in parte incredulo per ciò che stava accadendo ma sicuro dell'amicizia sincera di alcuni ferraristi in pochi giorni avevamo i nostri primi clienti questa era già una piccola scommessa vinta il lavoro iniziava a crescere e Franco si sincerava che forse il suo futuro da meccanico Ferrari poteva davvero essere ancora una volta una certezza appagandolo di tutti i sacrifici dedicati allo studio e alla scoperta dei prodotti di questo straordinario marchio di automobili un primo lavoro importante ci venne commissionato dall'amico Giuseppe Daccapo si trattava di un restauro completo della sua Ferrari Dino 246 chiesi la collaborazione dell'amico carrozziere Enrico così cercando di sdebitarmi in parte del grande aiuto fornito nell'imbiancatura dell'officina dovevamo riportare la carrozzeria allo stato grezzo per poi riverniciarla completamente a nuovo riparando tutte le parti corrose dal tempo Enrico fece davvero un lavoro da carrozziere esaltante noi altrettanto di meccanica e la soddisfazione fu che la vettura una volta finita e visionata come auto storica prese la targa oro ASI Giuseppe Daccapo insieme a Daniele Villa oltre che clienti sono tuttora dei grandi amici sapendo che a quei tempi non avevo molte possibilità mi avevano aiutato nella sistemazione completa del piazzale vi ringrazio ancora una volta anche voi avete contribuito alla nascita della Grand Prix Service ve ne sarò per sempre grato con Giuseppe e gli amici Adriano Zuccone e Daniele Delle Coste abbiamo trascorso domeniche indimenticabili con le nostre Ferrari partecipando a innumerevoli prove di velocità e regolarità ci siamo divertiti con amicizia sincera i mesi volavano il nostro lavoro funzionava a meraviglia grazie anche alla tempestiva collaborazione della concessionaria Motor di Modena alla quale facevamo riferimento visto che purtroppo in Lombardia in quel momento non esisteva più una concessionaria Ferrari in particolar modo il magazzino la cortesia e la preparazione del signor Daniele e dei suoi collaboratori erano più che soddisfacenti corretti attenti precisi e sempre ma sempre disponibili ad aiutarci in tutti i sensi un primo segnale della ricostruzione di una concessionaria Ferrari per la Lombardia ci venne fornito dalla visita del responsabile vendite Ferrari Italia signor Michele Sofisti e dal signor Giorgio Sean di Milano da quel momento iniziarono i nostri problemi venne ridiscussa la nostra concessione in quanto i nuovi autorizzati in Lombardia desideravano avere la totale esclusività della situazione la cosa stava diventando grottesca dopo aver ricevuto l'imprimatur direttamente dalla Ferrari rimettevano in gioco la nostra posizione quante notti ho passato a pensare cosa sarebbe successo se ci avessero fatto chiudere quanti pensieri di ogni genere sono transitati nella mia mente pensavo di perdere tutto mi giocavo la reputazione la mia piccola immagine costruita nel modo più onesto non potevo e non volevo crederci non volevo deludere nel modo più assoluto Franco che per primo aveva creduto in me e ancora una volta nel suo sacrosanto lavoro di meccanico Ferrari il mio referente in Ferrari era l'amico Marco Pieghetti allora responsabile assistenza Ferrari Italia con lui ho parlato tanto mi sono confidato come un fratello sapeva tutta la mia vera situazione i miei impegni economici e altro insomma ero frastornato deluso preoccupato ma determinato a salvare ciò che avevo fatto e dimostrato non esistevano lamentele sul nostro operato anzi i clienti erano contenti e soddisfatti e allora la situazione era davvero inspiegabilmente difficile Marco sei stato grande a credere nella mia persona mi hai difeso con orgoglio hai capito che il mio pensiero costante era quello di dimostrare che la nostra officina era vera capace e realmente preparata ad aiutare la Ferrari nella nostra zona con Michele Sofisti ho avuto un ottimo rapporto di collaborazione so di certo che ha fatto il possibile per mantenere fede alla promessa Ferrari nei miei confronti ma aveva grosse pressioni non era facile per lui ritrovarsi in una situazione simile spero proprio che la decisione di lasciare la Ferrari non sia stata a causa del mio problema certo poco dopo il suo allontanamento la sua carriera è decollata in modo vertiginoso le sue qualità erano tali da fargli prendere letteralmente il volo arrivando in poco tempo alla presidenza della famosa azienda di orologi Omega ed oggi del noto gruppo Swatch Michele anche a te devo un enorme grazie per tutto quello che hai fatto per aver creduto nella mia passione e nel nostro impegno come vedi non hai avuto delusioni ancora grazie e complimenti per ciò che sei diventato forse la Ferrari ha perso un grande manager ma non si sa mai se è vero che il mondo gira dopo aver rifiutato le offerte di cessione di compartecipazione e quant'altro venivo contattato personalmente dal nuovo direttore commerciale Ferrari dottor Michele Scannavini il quale mi informava di sapere tutta la mia storia e mi tranquillizzava circa la nuova firma di autorizzazione con la nuova concessionaria della Lombardia denominata Rosso Corsa nelle sue parole aggiungeva semplicemente solo questa frase si ricordi signor Raccanello la Ferrari manterrà fede alla promessa fatta a suo tempo anche questa volta fortunatamente ritornava un po' di serenità e tranquillità dopo pochi giorni venivano nella nostra sede per siglare il nuovo accordo di mandato Marco Pighetti e il signor Moscatelli della Rosso Corsa fu la rinascita della mia vita ritornavo a sorridere dopo aver passato e pensato di tutto era giunto il nuovo traguardo l'inizio con il signor Moscatelli è stato interessante e coinvolgente era una persona simpatica capace intelligente e preparata per svolgere quel mestiere ci siamo trovati subito in sintonia e d'armonia con quell'incontro abbiamo dato inizio a una fattiva collaborazione in questo nuovo inizio prendeva forma anche la possibilità in sede a Milano di un reinserimento dell'amico Valerio dell'Acqua era davvero il massimo perché il suo bagaglio di esperienza e di conoscenza nel mondo dei clienti Ferrari era esagerato era da molti anni che lui lavorava con Crepaldi per cui conosceva personalmente la situazione del mercato in tutte le sue sfaccettature mentre la collaborazione iniziava a dare i suoi frutti i miei interlocutori milanesi venivano sostituiti arrivava un nuovo direttore il signor Guy e un nuovo venditore il signor Locatelli l'inizio non è stato dei più facili ma poi con il tempo si è instaurato un rapporto professionale impostato sulla reciproca collaborazione e stima il lavoro dava i primi frutti concreti il passaparola dei clienti e amici portava la nostra officina sulla bocca di tutti la Grand Prix Service era davvero una magica realtà che aiutava a dipanare i sogni e a dispensare buoni consigli e interventi meccanici degni del marchio che la contraddistingueva ho appena nominato il nome della mia azienda il merito e la fantasia di questo nome è esclusivamente di Carlo Tazioli quando ha dato il fatidico via a questa operazione stimolato dalla mia richiesta di aiuto per come denominare la ditta mi consigliava di unire al nome Grand Prix che era già di un'officina Ferrari a Monte Carlo quindi storico il termine service attuale e moderno ciò al fine di associare nella nomenclatura un sostantivo datato e tradizionale con un servizio efficace e nuovo ogni giorno che passava non mi sembrava vero di essere un collaboratore della Ferrari curavo tutti i particolari nell'officina nell'ufficio di accettazione clienti nel mio personale ho comprato persino i mobili con venature viola come piaceva a Ferrari anch'io speravo mi portassero fortuna ero tremendamente orgoglioso e contento di far sapere che ero autorizzato ufficialmente dalla Ferrari i miei primi bigliettini da visita una commozione inenarrabile il mio semplice nome vicino al marchio originale della Ferrari questa realtà è ancora oggi incredibilmente vera quando uso la carta intestata o i biglietti per i ringraziamenti penso a Enzo Ferrari e lo ringrazio per aiutarmi giornalmente nel mio lavoro chiedendogli di poter assomigliare un poco al suo personaggio insomma non potevo davvero lamentarmi i clienti arrivavano ormai da ogni parte un giorno telefonava una signora molto gentile lamentando un problema alla sua Ferrari 348 con estrema disponibilità e cortesia chiarivo l'inconveniente spiegando la problematica e consigliandola di portare al più presto la vettura per sistemarla decisione presa al volo mi confermava che la mattina successiva sarebbe arrivata puntuale in officina così fece arrivò e si presentò era niente meno che la contessa Dolores Augusta Grover una signora molto bella simpatica semplice e con una classe meravigliosa mi fece i complimenti per la cordialità telefonica del giorno precedente confermandomi di aver accettato di venire da noi proprio per la preparazione la disponibilità e per aver sentito in me una grande passione per questo lavoro era vero dopo aver sistemato la macchina e quindi riconsegnata la vettura la simpatia e l'amicizia sono rimaste ogni tanto mi invia qualche cartolina con i saluti come si fa con gli amici importanti grazie contessa per i suoi complimenti mi hanno aiutato a migliorare e continuare su questa strada la ringrazio anche perché so che ha parlato bene del nostro lavoro con il compianto Umberto Agnelli ma ci pensate a colazione e a quei livelli parlavano del Mauro e della Grand Prix un giorno tornando con l'aereo da Roma per una commissione scolastica stavo maturando l'idea di riprendere a studiare e magari iscrivermi all'università ero su un aereo quasi vuoto perché faceva scala a Malpensa e poi ripartiva per il Giappone quando vicino a me si siede una signora bionda molto bella ma la conosco e porca miseria non mi viene in mente il suo nome è una cantante famosissima è stata più volte a Sanremo e è anche arrivata terza ma niente non mi veniva il suo nome ogni tanto i nostri sguardi si incrociavano qualche sorriso io canticchio a bassa voce le sue canzoni per farmi venire in mente come si chiama guardo anche le notizie dell'aereo a volte i programmi indicano quali sono i film che trasmetteranno e quale musica si può ascoltare ma niente le sue canzoni non c'erano e io rimanevo lì come uno stupido volevo farle sapere che la conoscevo che mi era simpatica e che la stimavo ma avevo vergogna non mi ricordavo nel modo più assoluto il suo nome ci voleva qualcosa per rompere il ghiaccio il momento propizio arrivò un cameriere gentilmente gli porge un calice di spumante e per l'occasione chiede a me se desideravo qualcosa intanto si sentiva che l'aereo aveva un ritardo nella partenza per problemi di bagagli ruppi l'incantesimo del silenzio e le confidai la verità in questo modo ciao io mi chiamo Mauro so che sei una bravissima cantante conosco le tue canzoni ma vergognosamente in questo momento non ricordo il tuo nome non vi dico lei scoppia a ridere di gusto dai non ci credo fai finta di non ricordarti no le ripeto è la verità riscoppia a ridere scuote la testa e simpaticamente si presenta sono Ivana Spagna madonna santissima che figura di è vero dico pensa che amnesia non lo ricordavo proprio nel giro di pochi minuti e inspiegabilmente siamo diventati amici parlando di musica del mio lavoro dei suoi sogni reali e irreali dei miei progetti delle passioni in comune arrivando persino a scoprire che siamo dello stesso segno zodiacale e tante altre cose molto belle il volo è parso durare un battito d'ali arrivati a Malpensa ci siamo scambiati gli indirizzi e i nostri numeri telefonici privati è stata cortese e mi pregò di non dare a nessuno i suoi dati personali ci siamo riproposti di trovare al più presto il tempo per una cena insieme dopo che ci siamo salutati e tornando verso casa con mia moglie Anna raccontavo quanto accaduto spiegando la sua simpatia gentilezza semplicità e naturalezza ero contento per quello che era successo conoscere un esponente della musica leggera così importante per uno come me che ha sempre amato la musica e si diletta a cantare è motivo di grande soddisfazione sempre ringraziando la Ferrari accadeva tutto questo con la scusa delle mie piccole vincite al Totogol con dei sei tenevo informata Spagna via fax questo perché anche lei era un'appassionata giocatrice e continuava imperterrita a giocare di tutto sperando nel colpaccio come me ormai erano passati un paio di mesi e non l'avevo più sentita il giorno di Sant'Angelo verso le 15 squilla il telefono risponde Anna e mi chiama dicendomi è una signora che ti vuole prendo il telefono pensando ad uno scherzo di qualche amico e invece era proprio lei Ivana voleva farmi gli auguri e invitarmi a una sua serata ad Alessandria e poi a cena ero incredulo di tanto onore ringraziavo per gli auguri ma purtroppo mi rammaricavo di non poter assecondare l'invito in quanto avevo un altro impegno già deciso da qualche tempo confermavo però di essere disponibile in altra occasione per una cena finalmente troviamo il modo di incontrarci ci presentiamo i rispettivi compagni e ceniamo insieme raccontando simpaticamente il nostro rendezvous sull'aereo e la mia incredibile storia che in sintesi state leggendo fino a questo punto il tempo è volato potrei parlare moltissimo di Ivana dovrei dirle tante volte grazie in primis per aver accettato di essere la madrina al battesimo di mio figlio Marco di cui vi parlerò tra poco quando le ho chiesto di farlo mi ha confessato subito Mauro non so perché ti dico di sì sento di farlo molto volentieri ti voglio molto bene per cui accetto con piacere Ivana mi ha regalato tanta amicizia ci siamo confidati cose personali intime come si fa con gli amici del cuore ci siamo aiutati a vicenda quando è stato necessario affrontare i nostri problemi ma non dimentico la sua cordiale e importante presenza alle mie feste di fine anno dedicate alla Ferrari dove ci ha sempre deliziato cantando dal vivo parte del suo meraviglioso repertorio grazie Ivana ho vissuto una piccola parte della tua meravigliosa storia mi hai permesso di incontrare tanti cantanti e persino di cantare con te sono estremamente contento ti auguro ogni felicità in questo mondo a volte contorto spesso ingrato ne hai pienamente diritto non posso e non devo però dimenticare anzi ringraziare anche il suo compagno di quel tempo l'amico Renato Neri con il quale siamo entrati subito in sintonia presto trasformata in una vera e propria amicizia che dura ormai da parecchi anni anche a lui devo una parte importante del successo delle mie feste mi organizza tutto il service l'impianto luci e audio come se fossimo in tv per cui capite che impegno e che regalo mi fa ogni anno continuo a ripeterlo alla noia ma mi sento veramente fortunato ad avere amici di questo livello se non li avessi non potrei essere così bravo a organizzare eventi importanti all'insegna della passione Rosso Ferrari grazie Renato non solo sei per me un amico di vecchia data ma ti ringrazio anche per l'aiuto esistenziale che non mi hai mai negato gli insegnamenti positivi su come ci si deve comportare improvvisando a seconda delle circostanze la tua signorilità è testimone della tua personalità oggi sei felicemente sposato con la bellissima Gisella Donadoni giornalista attrice e presentatrice devo dire che ti vedo meritatamente felice Gisella che ti mostri nel tuo ruolo merita un successo travolgente aspetta e vedrai anzi lo vedremo insieme tutti noi della compagnia dei ferraristi mi sono dilungato volutamente per ricordare queste persone a me molto care forse dovevo spiegarvi prima delle mie feste comunque in parole povere si tratta di un atto di riconoscenza verso i miei clienti Ferrari che durante tutto l'anno ci danno la possibilità con la riparazione della propria auto di lavorare investire e migliorare il più possibile il nostro lavoro rappresentando la Ferrari e dedicando la clientela un servizio all'altezza del marchio del cavallino rampante devo ancora ricordare che oltre al lavoro d'officina in occasione dell'annunciato rilancio delle corse per i clienti privati Ferrari è emersa la possibilità inaspettata di iniziare questa nuova avventura per noi profani di competizioni l'impulso mi venne fornito da un certo Gianluigi Roda industriale dell'acciaio l'avevo simpaticamente battuto infilandomi con il mio testa rossa in mezzo alle F40 nella famosa gara di cui vi ho appena parlato ricordandosi di me mi telefonò e mi propose di assisterlo nel campionato challenge con la Ferrari 355 aggiungendo anche che avrebbe telefonato a un suo caro amico di nome Saturnino De Cecco il re della pasta italiana per chiedergli se voleva partecipare anche lui al campionato andai a trovare inditta Gianluigi per decidere i dettagli dell'operazione telefonò immediatamente a Saturnino detto amichevolmente Nino il quale fu reso da subito partecipe al nostro progetto Nino non conoscendomi mi volle sentire personalmente al telefono dalle mie risposte traspariva decisamente la nostra poca esperienza nelle corse e nonostante la cruda verità forse per immediata simpatia o temeraria fiducia mi confermò la sua partecipazione e provvide tempestivamente mandandomi la somma necessaria per l'acquisto della vettura ma ci pensate uno mi conosceva avendomi visto una sola volta un raduno l'altro mi aveva conosciuto telefonicamente in un attimo mi ritrovavo una squadra corse con due piloti importanti di nome e commercialmente di fatto due calibri da 90 ho probabilmente la giusta impressione di ripetermi spesso ma non ci credevo è la pura e sincera verità comunque bando ai pensieri e alle difficoltà del caso si partì anche con questa nuova avventura non vi dico quante cose avrei da raccontarvi sarà molto difficile sintetizzare i tanti episodi accaduti durante le corse l'inizio per noi è stato piuttosto difficile l'esperienza agonistica non era di casa ma l'impegno e la volontà di riuscire era per noi un altro obiettivo da raggiungere e piuttosto in fretta il tempo e le necessità di far bene erano un imperativo categorico e noi non volevamo deludere i nostri corteggiati e fiduciosi piloti la nostra officina era già cresciuta numericamente in termini di personale avevamo già da tempo assunto un giovane meccanico l'amico Giovanni Marcucci poco dopo toccava suo fratello Antonio per terminare con le ultime due assunzioni di Luca Brugnoni e Francesco Cerini tutti questi meccanici tranne il Cerini facevano parte dello staff tecnico a suo tempo dell'officina autorizzata Ferrari di Gazzada di cui vi ho già parlato per cui meccanici di vecchia data appassionati esperti e felici di ricominciare ad appartenere ancora una volta ufficialmente al mondo delle automobili Ferrari un primo problema che abbiamo dovuto affrontare in preparazione delle competizioni è stata l'assenza della licenza per correre nel challenge da parte di De Cecco doveva pertanto sostenere una sessione di prove organizzate dalla Ferrari nella pista di Fiorano con i commissari romani della XAI con Nino De Cecco ci siamo fisicamente conosciuti all'ingresso della pista di Fiorano devo dire che mi aspettavo tutt'altra persona invece si presenta un ragazzo giovane sportivo e spontaneamente allegro è nata subito una simpatia reciproca che non ha conosciuto incrinature dopo i saluti di circostanza vista la sua estrema modestia e semplicità mi è venuto spontaneo chiedere se poteva prestarmi la sua auto per fare anch'io in quella occasione il test per la licenza la sua risposta senza esitazione è stata nei termini la macchina è già qua se ti lasciano fai pure in un attimo ho chiesto se fosse possibile e via compilo subito il formulario di domande indosso la tuta e per la prima volta mi cimento alla guida sotto esame per lui era molto più facile era già un pilota con esperienze maturate in altre categorie per me era la prima volta che mi trovavo ad affrontare un esame di guida veloce in pista la sua performance tutto ok poi tocca a me vittima di una rocambolesca messa in scena fantoziana ecco che arriva un temporale inaspettato e mentre entravo in pista giù acqua più non posso non sapendo quale fosse il limite minimo sul giro spingevo tornata dopo tornata cercando di andare più forte possibile e vi assicuro rischiando forse anche troppo tanto che all'ultimo giro alla staccata del ponte arrivavo talmente forte che mi vedevo già volare giù dal cavalcavia ma inverosibilmente l'impianto frenante di quella macchina era stupefacente permettendo di inserirmi in quella curva in modo spettacolare e incredibilmente sicuro a rientro mi ricordo il sorriso e le parole di Nino oh ma quanto ca... vai forte con sta macchina ma come sei matto ma ti sei accorto che pioveva non era facile contenere la mia felicità ora avevo anche la sospirata licenza per correre ma chi ci credeva ringraziamenti stretta di mano e appuntamento alle prime prove test sul circuito di Monza per preparare la vettura al campionato organizziamo la trasferta vi sembrerà strano ma la sfortuna climatica ci perseguitava quel giorno diluviava a non finire la mattina stessa Nino mi telefonava e scusandosi mi confermava la sua impossibilità a partecipare ai test demandando la preparazione della sua vettura al sottoscritto mi disse Mauro ormai hai organizzato tutto e tutto è pagato se vuoi falle tu le prove e poi mi dici qualcosa mi raccomando non distruggere la macchina il cimentarmi nei test di prova era un grande onore e una ancor più grande responsabilità la macchina non era mia non c'era l'assicurazione casco per cui la decisione di andare in pista non era facile per me se fosse capitato qualcosa dovevo pagare io con quali soldi? un, due, tre decisione presa lasciamo uscire Gianluca Roda con la sua 355 e io mi metto subito dietro con l'altra vettura dopo qualche chilometro prendo la decisione di lasciarlo andare per avere una maggiore visibilità iniziando così a girare cercando di rodare un po' il motore e capire al meglio il comportamento dell'auto sotto quel diluvio simpaticamente ricordo che il mio meccanico Franco pensieroso e preoccupato per l'incolumità mia e della macchina era ad ogni giro sul muretto box per vedere se passavo indenne Gianluca aveva dato informazioni utili per l'assetto desiderato e aveva preso confidenza con l'auto le mie prove sono andate bene un paio di testacoda ma niente di più mi sono maledettamente divertito inventando e sperimentando l'assetto e i miei tempi sotto l'acqua sono un tesoro prezioso conservato da Franco tra i suoi appunti con la voglia di correre che avevo in corpo non sarei più sceso da quella macchina anche in quell'occasione mi sono detto se un giorno potrò spendere dei soldi mi devo togliere la soddisfazione di correre almeno una gara giusto per provare anche questa grande emozione finalmente parte il campionato challenge 355 e noi in sordina diventiamo parte integrante di questa importante vetrina agonistica internazionale i nostri due piloti da amici diventavano sempre più acerrimi rivali in pista ognuno di loro come è di consuetudine voleva primeggiare e controllandosi a vicenda cercavano in senso buono di esprimere il meglio di se stessi dando il massimo nelle prestazioni l'incantesimo di correttezza e simpatia all'interno della squadra si affievoliva lentamente io personalmente facevo fatica a mantenere un clima disteso dopo le prime gare pagando pesantemente il non perfetto affiatamento dei piloti con la vettura riuscivo a commuovermi anche con l'arrivo in posizioni tipo sesto, settimo ed ottavo posto la convivenza nella stessa squadra dei due piloti ben presto si esaurì con buona pace per tutti il clima in cui si lavorava non era speciale Gianluca prendeva la gara con una serietà esagerata criticando sempre l'operato dei meccanici e palesando costantemente il dubbio che noi non preparassimo le vetture in modo uguale e quindi parteggiassimo per Nino a Monza Gianluca in una gara sotto l'acqua ci ha regalato una bellissima emozione arrivando terzo un traguardo che ci dava conforto speranza e gratificazione voleva dire che tutto sommato stavamo lavorando nella giusta direzione nonostante la gioia e la speranza di tutti il nostro rapporto con Gianluca era sempre più teso e privo di una amichevole nonché reciproca fiducia presi così la decisione di modificare gli accordi verbali consigliandolo di cambiare squadra e mantenendo l'impegno solo con Nino De Cecco con Nino abbiamo vissuto insieme momenti sereni scherzosi difficili e talvolta drammatici come in occasione di un suo incidente da brivido durante la trasferta romana lui è sempre stato un uomo ragionevole educato gentile signore e generoso in tutti i sensi e questo è bastato per dargliene merito quanti scherzi gli abbiamo fatto per dirvene una quella volta nelle prove ufficiali a Vallelunga a Roma ci siamo persi in mezzo al traffico siamo arrivati tardi in pista lui era molto preoccupato perché doveva entrare sul circuito per la sessione di prove ufficiali in pochi minuti era in auto mentre si schierava io gli portavo il caffè in macchina Franco gli accendeva la sigaretta ed Enrico il carrozziere scherzosamente gli aveva chiuso nel cofano posteriore una gamba e un braccio finto non vi dico i commissari il pubblico erano tutti impazziti per la goliardia del nostro team volendo riferire solo in parte quello che abbiamo condiviso insieme non basterebbe questo libro nei box mentre tanti piloti prendevano troppo seriamente la loro trasferta il nostro Nino imbracciava la chitarra ed io lo accompagnavo a ritmo battendo le mani sul tavolo e cantando con lui le canzoni più spensierate e più famose ricordo un'intervista fatta per conto di un noto mensile di auto il quale scriveva del nostro team quando si entra nel box della Grand Prix Racing si nota un clima disteso simpatico tranquillo quasi irreale tutti lavorano in armonia la complicità del pilota e del suo team manager Mauro Raccanello permettono di scherzare e giocare senza togliere la precisione e la concentrazione nel dare il massimo per la preparazione della vettura protesi nel perseguire la vittoria nel 1997 abbiamo combattuto per tutto l'anno siamo arrivati quasi sempre secondi il podio ormai per noi era diventato una bella abitudine nella finale mondiale in Sicilia a Pergusa abbiamo strappato un'importante e incredibile pole position mondiale tanto che abbiamo ricevuto la visita e i complimenti del presidente della Ferrari avvocato Luca Cordero di Montezemolo del pilota di casa Ferrari Michael Schumacher e le loro congratulazioni per quanto dimostrato in pista il nostro umore e la nostra gioia erano incontenibili oltre a Nino hanno corso negli anni successivi anche altri piloti un simpatico ricordo va a Gianluigi Locatelli già pilota Porsche e convinto a cimentarsi con la Ferrari Pierangelo Masselli con lui abbiamo condiviso un ottimo quarto posto e tante emozioni Flavio Montagnoli grande amico e pilota per una volta a Monza portando l'immagine di Vana Spagna e del suo nuovo album per tutta la trasferta lei gentilmente era venuta a fare il tifo con noi e a portarci fortuna mi ricordo una sera a cena nell'Interland milanese Ivana insisteva per finanziarmi una gara pensando che potesse servire per lanciarmi nel mondo delle corse ringraziandola gentilmente di cuore le ho spiegato che non ambivo a niente di più che un'esperienza gratificante e personale anche dimostrando di essere uno che va forte non mi sarebbe cambiata purtroppo la vita Alberto De Bernardi è stato l'ultimo nostro pilota challenge era un semplice ma prezioso cliente appassionato di auto da corsa l'ho coinvolto senza saperlo ad un raduno parlavamo di corse in lui è scattata la molla agonistica e in men che non si dica era già pronto a partire per la prima gara Alberto ci ha regalato l'emozione unica della vittoria sì anche noi della Grand Prix Racing abbiamo nel nostro carnet oltre a tanti piazzamenti di rilievo anche una prestigiosa vittoria nella magica pista Ferrari del Mugello siamo partiti in seconda fila alla prima curva Alberto era già balzato in testa ha contenuto per tutta la gara tra gli attacchi degli avversari ad ogni suo passaggio io pregavo che mantenesse la sua posizione facevo gli scongiuri con la malasorte e formulavo incitamenti da stadio perché potesse dare il massimo Alberto ha tenuto duro fino alla fine forse non si è reso conto se non al termine della competizione dell'importanza di quella vittoria magistralmente vinceva in modo straordinario e strabiliava tutti i suoi concorrenti conducendo tutta la gara con maestria e correttezza la ciliegina è arrivata a fine stagione convocati come tutti gli anni per la premiazione del challenge Ferrari a Fiorano nella pista era stata organizzata la classica gara a squadre di go-kart io invitavo Dodi Battaglia dei Poo essendo un mio grande amico e come noto appassionato di motori e di corse a partecipare nella Kermess con la nostra squadra ad Alberto la cosa diede un'immensa gioia essendo come me ammiratore e conoscitore di tutte le canzoni dell'intramontabile nonché famosissimo complesso musicale Dodi venne partecipò si divertì e dopo le foto anche curiose di rito e simpatia andammo tutti a casa come si suol dire felici e contenti peccato dopo aver dimostrato nell'ultima stagione e con la nostra vittoria d'essere un team in grado di poter vincere abbiamo deciso nostro malgrado di abbandonare il challenge per forza maggiore purtroppo i costi e il cambiamento del modello dalla 355 alla 360 non ci hanno permesso per il momento di continuare le emozioni nella mia vita non mi sono mai mancate in mezzo a tutta questa passione lavoro e gratitudine ricevuta nasceva la cosa più preziosa al mondo per me mia moglie dava alla luce il nostro bambino di nome Marco finalmente un altro sogno realizzato avevo molta voglia di avere un bambino e quando meno te lo aspetti ecco la lieta novella tutto quello che ho fatto e che faccio adesso è dedicato a lui ho deciso che sarà liberissimo di scegliere nella sua vita cosa fare se la grande passione per la Ferrari è stata trasmessa anche a lui potrà godersi i frutti del mio lavoro altrimenti potrà fare quello per cui sarà portato e io sarò sempre al suo fianco per consigliarlo per aiutarlo e perché gli voglio semplicemente tanto bene dopo essermi volontariamente impegnato nelle corse per fare esperienza e farmi conoscere il mio lavoro di assistenza procedeva piuttosto bene le spese per l'attrezzatura sia di marchio Ferrari derivato che standard erano state affrontate gradualmente fino a creare un'officina sempre più completa di conoscenza e pratica delle cose la soddisfazione di vedere sempre più clienti nuovi ci dava la forza di affrontare di tutto e di più tra le tante soddisfazioni una mi è arrivata direttamente da Sergio Cassano un giorno si trovava in Ferrari per salutare vecchi amici e coglieva l'occasione per telefonarmi facendo sentire anche ai presenti quanto aveva da dirmi dopo i soliti saluti di circostanza si scusava perché a suo tempo aveva valutato e poi accettato le mie dimissioni indi aggiunse Mauro penso di avere fatto un grosso errore nell'accettare le tue dimissioni mi sono lasciato convincere da persone a me vicine che fosse la cosa migliore ho sbagliato tu non meritavi dovevo rifiutarle e insistere per tenerti nel nostro consiglio ti faccio le mie scuse e i miei complimenti so del tuo lavoro e ti auguro tanta fortuna perché semplicemente te la meriti beh non me lo sarei mai aspettato il suo comportamento dava maggior rilievo alla sua spiccata ed onesta personalità quella telefonata mi ha fatto sentire molto bene ti ringrazio anch'io Sergio la lealtà è la base della vita e tu l'hai interpretata perfettamente il coinvolgimento personale e l'amore per il cavallino ci dava una forza straordinaria ci permetteva anche di aumentare le adesioni alla nostra cena annuale dedicata esclusivamente a tutti i nostri clienti sostenitori amici e collaboratori era nata all'inizio con una modesta partecipazione di una cinquantina di persone per poi arrivare ad oggi con un numero tutt'altro che trascurabile di quasi 300 persone questa festa penso sia doverosa primo per ricordare sempre il fondatore della fabbrica Enzo Ferrari secondo per rinnovare i ringraziamenti all'attuale presidente Luca Cordero di Montezemolo e terzo ma non ultimo per i preziosi clienti che con il loro contributo sia nell'acquisto che nella manutenzione delle vetture permettono a tutti noi di esistere di migliorare ma soprattutto di continuare nel nostro lavoro senza di loro ciò non sarebbe possibile penso senza presunzione di essere l'unico tra i responsabili del settore che rappresento che alla fine dell'anno organizza un tale evento come è noto si svolge a Stresa presso l'hotel Regina Palace un posto da sogno grazie al suo proprietario Andrea Padulazzi permettendomi di farmi sentire a mio agio come fossi a casa mia e di provocare la stessa sensazione in tutti i partecipanti deliziandoli e coccolandoli per l'intera serata con un'ottima cena premiazioni a sorpresa ospiti illustri ricordo della serata e buona musica con ballo scatenato da discoteca per finire ogni anno aumentiamo il numero dei partecipanti ogni anno abbiamo gli sponsor naturali e indispensabili la gioielleria di Monte Carlo della signora Paola Bernasconi e del marito Salvatore Ignacolo i quali si inventano oggetti da esporre per l'occasione oggetti da omaggiare ai ferraristi e quant'altro si possa fare per ricordare la serata in modo particolare la Girard Peregaux rappresentata dal signor Luigi Cravero simpatico gentile ed ospite ormai fisso da molti anni mette in bella mostra i nuovi gioielli d'orologeria con la completa e nuova gamma dedicata alla Ferrari portando anche omaggi per la serata e per la premiazione un pensiero particolare va all'amico Antonio Bulgheroni soprannominato personalmente come l'uomo più dolce del mondo i suoi prelibati e superlativi cioccolatini alla serata non mancano mai il suo stile il modo di comportarsi e la preziosa amicizia nonché la spontaneità e correttezza ne fanno un uomo da imitare Antonio spero di assomigliarti un po' nel mio piccolo oltre a quelli sopra menzionati non posso dimenticare gli amici Emilio Bottarini mi regala gli oggetti necessari per la premiazione speciale Livano Zanatto amico di nuova generazione per il suo sostegno economico Rolando Anchieri è certamente una persona speciale il suo aiuto è simpaticamente secolare ed incontenibile tutti gli amici e i pochi nemici sanno quanto gli voglio bene a lui devo una parte di vita ferrarista se ho avuto la possibilità di possedere la Ferrari F40 è merito suo il nostro rapporto di stima ed amicizia a volte è stato invidiato da persone che oggi non sono più nella nostra compagnia non lo meritavano anzi volutamente incrinavano l'armonia inventando e mai dimostrando la reale verità delle situazioni volgarmente create un pensiero speciale è dedicato a sua moglie Antonietta una compagna di vita ideale una donna una moglie un'amica e un'amante lo rende felice in ogni momento della sua vita accompagnandolo e coccolandolo nelle sue avventure lavorative e di svago grazie vi voglio bene davvero tanto tra i miei clienti sono passati sei giocatori di calcio di cui riservo un simpatico ricordo l'interista Aaron Winter rimasto a piedi per caso con la sua vettura e dopo esserci conosciuti siamo diventati amici i milanisti Stefano Nava ormai diventato famoso telecronista e presentatore sportivo pur di farsi comprare la 456 tentava di convincere suo padre che era comodissima lui alloggiato nella parte posteriore dell'auto aveva praticamente le ginocchia in gola ma sorridendo diceva papà guarda come comoda questa macchina suo padre non gli ha creduto ma noi siamo tuttora grandi amici ricordo simpatico anche quello di Franco Baresi l'avevo convinto a provare la 456 un giorno mi invitò a Milanello per vederla e io insistetti per fargli fare un giro era in ciabatte e non voleva provarla alla fine lo convinsi e a ritorno sorridendo mi disse se quest'anno rinnovo ancora il contratto la compro ma pensate quanti contratti aveva già rinnovato era simpaticamente furbo e attento alle sue spese il mio ricordo non può essere che cordiale e amichevole Massaro e Orlando due ragazzini pieni di vita e felici di giocare in tutti i sensi con Orlando ho pranzato per la prima volta a Milanello alla presenza di tutti gli altri giocatori persone che vedevo soltanto in televisione l'essere lì e mangiare con al fianco tutta la squadra del Milan mi sembrava troppo solo qualche anno fa non avrei mai creduto possibile tale eventualità eppure mi stava accadendo quasi inaspettatamente l'incontro con Marcel Desai fu esilarante si presentò in pantaloncini corti dicendo che gli avevano parlato bene di me e voleva vedere qualche macchina lui ne aveva appena incidentata una e la voglia non gli era ancora passata ogni tanto ritornava e trascorreva qualche mezz'ora seduto sulle macchine mi diceva mia moglie non vuole più che compero una Ferrari ha troppa paura ma io non posso dimenticarla se non ti disturbo vengo a trovarti così le vedo e sto bene l'ultimo dei milanisti con cui mantengo tuttora un ottimo rapporto d'amicizia è Roberto Donadoni anche egli un vero signore i suoi modi educati e gentili mi sono rimasti nel cuore un episodio curioso condiviso con lui è stato quando avendo la sua auto presso la nostra officina sono andato a Milanello a prenderlo con la mia Ferrari all'uscita come di consuetudine c'era una folla di tifosi incredibile e Roberto da gran signore qual era mi disse Mauro puoi fermarti un attimo che faccio un po' di autografi non c'è problema risposi e accostai subito fuori dal cancello un ragazzo si avvicinò al mio finestrino abbassato guardò dentro ed esclamò a quelli dietro questo chi cavolo è subito un amico gli rispose sarà uno nuovo fatti fare l'autografo Roby sentì tutto e ridendo mi disse Mauro firma anche tu loro sono contenti a te non costa nulla con i tifosi bisogna sempre essere gentili sono la nostra anima sportiva e il nostro grande sostegno parole sante peccato che non tutti sono così gentleman alcuni quando diventano famosi dimenticano da dove vengono chi erano i vecchi amici e soprattutto le buone maniere certo guadagnare tanti soldi così in fretta e così giovani si fa presto a cambiare lo stesso vale per tanti altri sport che ti permettono di raggiungere l'apice della carriera e contemporaneamente di diventare uno status symbol conteso e strapagato non vi nascondo che tra i miei sogni e desideri personali non mancano quelli di provare ad essere un famoso attore cantante presentatore o personaggio televisivo e cercare in tutti i modi anche se probabilmente complicati di rimanere quello di prima e magari meglio di prima in senso assoluto visto che la fortuna ha voluto frequentemente arridermi voglio regalare simpatia e disponibilità quando serve ciò al fine di essere un bel esempio per tutti come taluni personaggi lo sono stati per me un cliente speciale ed inconsueto è il signor Maurizio Molla di Solbiate Arno un personaggio conosciuto apprezzato nel paese semplice e modesto nei suoi comportamenti un vero signore per cui nutrivo già da tempo una spontanea simpatia mai e poi mai avrei pensato che un giorno potesse diventare un mio cliente non essendo possessore Ferrari tutta la sua flotta automobilistica è affidata alla nostra officina grazie per la fiducia e reciproca stima tra i tanti clienti e amici non voglio dimenticare il genovese Franco Turtoro ammalato di pista gare di slalom abilità e quant'altro possa dare sensazioni forti di velocità legata alla sua Ferrari la sua simpatia agonistica è accentuata dalla presenza di sua moglie Laura costretta in ogni occasione a cronometrare e riportare tutti i tempi per vedere se le sue performance migliorano e quale posizione di gara determinano con loro ho condiviso tante emozioni ci siamo confidati i nostri segreti e problemi ci siamo aiutati nel capire alcune situazioni venutesi a creare con l'arrivo di altre persone nella compagnia penso siano dei veri amici sono contento di trascorrere in loro compagnia come da nostro simpatico patto d'amicizia il 15 di agosto e il 31 dicembre di ogni anno dopo qualche anno d'assenza in associazioni da appassionati Ferrari mi si presentava inaspettata una convocazione nel consiglio direttivo del Ferrari Owners Club Lombardia venivo contattato dal presidente signor Paolo De Luca e partecipavo così ad una riunione preliminare per il mio possibile inserimento tutti conoscevano la mia innocente e vera passione rossa sapevano che ero un grande trascinatore di ferraristi e della mia esperienza nel Ferrari Club Italia quale organizzatore di eventi di importanza rilevante pronti via in pochi minuti ero un nuovo membro del consiglio direttivo durante il mio mandato penso di aver contribuito in modo fattivo sia nell'organizzazione di manifestazioni che nella migliore conduzione delle stesse sinceramente mi palesavo contento per l'occasione avuta ma purtroppo il tempo della nostra carica stava per scadere e le nuove elezioni si avvicinavano nella riunione dedicata alle nuove votazioni con mia immensa gioia ero rieletto con un numero di voti considerevole tanto che alle votazioni interne rischiavo persino di trovarmi a ricoprire la carica più alta la presidenza venne assegnata all'amico Giulio Ciceri mentre per la vicepresidenza eravamo in ballottaggio io ed Agostino Pizzo uomo dalla dialettica perfetta e dalle idee innovative la decisione finale la decisione finale però spettava al neopresidente eletto Giulio senza una minima esitazione formulava il mio nome pensate in poco tempo ero diventato vicepresidente di uno dei club più importanti e rappresentativi nell'ambito amatoriale della Ferrari la mia semina dava i suoi frutti ed io ero incredibilmente contento con Giulio e compagni abbiamo organizzato tante cose belle peccato che il nostro mandato durò poco la Ferrari per una lunga serie di incomprensioni tra la sede e i rispettivi consigli direttivi dei club owners decise di sciogliere questi sodalizi e ritornare solo ed esclusivamente al vecchio Ferrari Club Italia di questo importante periodo voglio ricordare la figura di Roberto Scaglione persona a modo sincera onesta forse un po' ingenua nel credere che alcune persone a cui dava piena fiducia fossero davvero oneste come lui il pensiero della grande passione rossa va a Giulio Ciceri è stato ed è tuttora un grande amico vero e leale incredibile laboratore per la squadra corse Ferrari di Formula 1 ha trasmesso il calore che personalmente dona ogni giorno con il suo impegno in Ferrari insomma il nostro simpatico giocherellone super appassionato di auto Ferrari a cui va il mio grazie per l'aiuto alle mie feste e molto altro mantengo un ottimo ricordo di quel periodo una delle mie mansioni era di tenere il collegamento e la responsabilità di tutti i Ferrari fans club lombardi penso di essere stato il primo a voler organizzare una riunione generale con tutti i presidenti di questi datati club di inossidabili appassionati il fine era quello di conoscerli personalmente e proporre loro una collaborazione che portasse ad avere un programma nelle manifestazioni dedicate alla Ferrari coinvolgendoli ad organizzare eventi e raduni degni del marchio rappresentato alcuni di interesse socio-culturale ed altri quando possibile agonistico o di svago pensate che ancora oggi qualche club ne ho autorizzato mi chiama per consigli e per ringraziarmi ancora della mia disponibilità anche queste sono grandi soddisfazioni vuol dire che il mio modesto operato era compreso corretto e nel senso giusto per dire la verità dopo la fine del Ferrari Owners Club Lombardia ero un po' deluso non ero più interessato a nuovi sodalizi se non che un giorno parlando con amici di vecchia data chiaramente di auto Ferrari veniva spontanea la domanda ma perché noi che siamo amici da tanto tempo ci conosciamo bene non fondiamo un nuovo fans club dopo solo qualche giorno ero di nuovo in pista per organizzare il nuovo club il nome da tutti prescelto era Ferrari Club dei Laghi Varese appena ricevuta l'autorizzazione della Ferrari la numero 506 preparavamo subito la nostra prima grande festa dopo qualche anno possiamo trarre semplici ma concrete considerazioni abbiamo perso un solo componente del consiglio probabilmente non era al posto giusto la nostra modestia la sincerità e l'affiatamento potevano dar luogo ad invidie gratuite nel nostro consiglio vige la massima trasparenza la documentazione di ciò che accade e delle decisioni prese in comune accordo la libertà di parola e di azione e di tutto questo ne siamo contenti e fieri il bilancio delle manifestazioni è ottimo abbiamo organizzato feste per i nostri soci un raduno gigantesco riservando una parte di nave da crociera per un incontro con il ferrari club catalunia a barcellona stabilendo con loro il record di partecipazione di auto ferrari nella città ben 124 uno spazio l'abbiamo dedicato ai nostri bambini e per quelli meno fortunati di cernobil abbiamo partecipato a feste benefiche in genere e in questo ultimo anno 2004 donato con l'aiuto di alcuni soci sostenitori una fiat panda all'associazione la finestra di malnate ormai abbiamo superato i 500 soci e voglio ricordare simpaticamente alcune presenze illustri coinvolte nella nostra passione quali Marco Franzelli Ipu Ivana Spagna Leo Gullotta Fabio Grossi Gisella Donadoni e Mimmo Schiattarella un piccolo ma sincero pensiero va al club di Travedona condividiamo quando possibile l'organizzazione di eventi insieme il suo presidente Adriano del Grande merita un elogio la sua genuina spontaneità ha conquistato tutto il suo staff e gli appassionati locali continua così e sarai davvero grande di nome e di fatto i fortunati componenti del consiglio direttivo del Ferrari Club dei Laghi Varese sono Pietro Cantisani e Pino Saba mi ricordano tanto me stesso anch'io come loro ero appassionato ricco solo di sogni e speranze incredulo il giorno in cui riuscì a comprare per davvero una Ferrari invece con i sacrifici e le rinunce si possono perseguire traguardi insperati Pietro è come un fratello Pino un amico insostituibile Marco Goldoni Daniele Scuttari due vecchie amicizie collaudate sempre disponibili ad aiutarmi quando necessita amici da tempo e sicuramente amici per sempre Davide Bossi e Giacomo Andreotti con loro la stima e l'ammirazione reciproca entrambi realizzati nel loro lavoro e pronti a mischiarsi con comprovata amicizia con tutti noi attuando concretamente il massimo desiderato da questo gruppo simpaticamente sincero Daniele Villa e Lucio Galbiati gli ultimi arrivati nel consiglio Daniele amico di vecchia data e già nominato Lucio grande genio del portale con la sua semplice e sincera generosità ha conquistato il rispetto del gruppo entrambi non sapevano di poter comprare la Ferrari ma la determinazione la fortuna la saggezza l'incoscienza e qualche sacrificio hanno permesso loro di regalarsi la possibilità di raggiungere un traguardo così tanto importante e insperato Michele Gagliardi l'ultimo lo conosco da bambino ricordo di essermi vestito da babbo natale per portargli i regali a lui destinati non avrei mai pensato di poter collaborare con lui è un grande piacere abbiamo una meravigliosa sintonia è decisamente un mago della grafica e della composizione artistica io inizio a chiedere e lui parte già con il provino ha delle doti fantasia e capacità lavorativa incredibili farà sicuramente strada e se lo merita complimenti a tutti voi so che mi volete bene e mi stimate ve ne sono grato e non me ne dimenticherò mai pensate più scrivo e più vorrei scrivere non vorrei dimenticare nessuno nella mia storia nemmeno Flavio Montagnoli e sua moglie Clara amici da sempre nei raduni a casa loro per le nostre feste dedicate all'allegria all'amicizia e alla musica cantando per ore di tutto e di più forse Aurelio Semprini a questo punto pensa di me si è dimenticato non è così anche lui come tanti miei amici e clienti è arrivato alla Ferrari per la tanta devozione sportiva la sua cultura è spaventosa legge ogni cosa sulla storia della Ferrari è preparatissimo con lui abbiamo trascorso momenti indimenticabili all'insegna del buon umore e poi le sue parole mi hanno colpito da tempo ricordo che un giorno mi disse Mauro guarda che io ho comprato la Ferrari perché ci sei te sentiti responsabile nel continuare per sempre altrimenti compro subito la Porsche con quest'ultimo pensiero penso di aver parlato molto e terminato con gli amici speciali con cui passo le mie serate le mie domeniche come si suol dire se ho dimenticato qualcuno è stato involontario e me ne scuso anticipatamente in questo momento della mia vita mi posso riconoscere molto fortunato in certi rari casi deluso fiducioso e più precisamente fortunato perché ho un figlio di nome Marco a cui voglio immensamente bene è la persona più importante della mia vita spero possa crescere nel migliore dei modi sereno e magari con tanta passione verso la Ferrari così da continuare il mio meraviglioso lavoro iniziato e sviluppato sino ad oggi partendo dal nulla deluso perché le amarezze della vita ti tolgono gli anni senza accorgerti il lavoro lo devi difendere sempre a denti stretti i rapporti di una volta non esistono più le persone continuano a cambiare mancano le strette di mano di un tempo e la lealtà dell'uomo vero oggi anch'io sono solo un numero e se non fai quello che dicono non tengono sicuramente conto di cosa hai fatto sino ad ora deve essere ben chiaro io lavoro perché ho molta passione verso la Ferrari credo fermamente in quello che faccio e voglio difendere i miei sacrifici nel pieno rispetto verso i miei collaboratori clienti amici e fornitori a cui va tutto il mio grande ed infinito ringraziamento fiducioso perché sono sicuro avendo provato sulla mia pelle che l'onestà paga sempre magari tardi ma bisogna saper aspettare ed avere la massima fiducia in noi stessi soprattutto quando pensi di essere arrivato alla fine di non farcela o quando hai tutto e tutti contro bisogna resistere ed essere fiduciosi non mollare anzi lottare fino alla fine il traguardo è proprio davanti a noi basta crederci e arriva il momento di toccarlo alla Ferrari di oggi vorrei dire un forte e grande grazie come a quella di 12 anni fa in questi anni sono cambiate molte persone si sono fatti passi avanti e in certi casi passi indietro l'evoluzione è costante la riorganizzazione e l'esasperata ricerca tecnologica hanno avuto senza dubbio il sopravvento con la nostra semplice e sincera passione dobbiamo tenere assolutamente il passo della concorrenza e possibilmente essere sempre i migliori l'impegno mio e della Grand Prix Service rimarrà tale fino a quando il fuoco che arde nel mio cuore di appassionato resterà vivo e vitale ho rinominato per l'ultima volta il nome della mia azienda mentre non ho mai parlato della mia stupenda impiegata si chiama Marinella Tognolo la sua figura è importante e insostituibile anni fa eravamo solo amici ormai lavora con noi da molto tempo ha vissuto con me momenti impegnativi e difficili non mi ha mai deluso è custode di molte verità della mia vita saprà cosa fare in caso di necessità la sua stima nei miei confronti è grande come grande è il bene che le voglio grazie Mary come iniziavo questo libro voglio finirlo non credo davvero ai miei occhi di aver scritto la mia storia trascorsa con la mia vera passione la Ferrari ho conosciuto tante persone il suo grande fondatore ho visto e provato molte cose ma pensare di scriverle sintetizzandole non è stato facile anzi un po' di merito va al grande giornalista della RAI Marco Franzelli ho avuto il grande piacere di conoscerlo a Varese in occasione della presentazione del suo libro su Montezemolo e le sue vittorie con la Ferrari al termine abbiamo scambiato due chiacchiere simpaticamente ci siamo scambiati i nostri recapiti e nell'occasione della mia festa l'ho invitato a presentare e divulgare il suo famoso libro devo dire che la sua presenza ha impreziosito la nostra festa regalando ad insaputa degli ospiti il commento dal vivo sul filmato da noi presentato dell'ultimo giro di pista di Michael Schumacher diventato campione del mondo in quell'occasione pensate quando l'ho presentato premiato e ringraziato della sua presenza mi sono divertito a intervistarlo che soddisfazione lui che è un vero e grande giornalista televisivo accettava con comunanza di sentimenti e scherzosamente la situazione Marco sei forte alla mattina seguente mentre lo riaccompagnavo in stazione a Milano dopo la festa di Stresa gli ho raccontato un pezzetto della mia storia e mi ricordo che mi disse Mauro perché non scrivi un libro la tua storia può far bene a tanti soprattutto a quelli che pensano sia difficile e impossibile farcela grazie a Marco ho provato spero di non avervi annoiato ma divertito e mi raccomando credete in quello che vi dico più di uno su mille ce la fa grazie un caro e sincero saluto ai lettori di questo semplice e modesto libro che vuole essere in chiave dialogica non un tentativo ma riuscito di aulico documentare vuole essere un battito d'ali un sibilo nell'aria come quando le nostre autovetture si muovono così dinamiche sull'asfalto perché sono fatte per correre in pista e per condurci per le strade di tutti i giorni regalandoci un'emozione quell'emozione quel fremito che ha ispirato e mosso il loro primo creatore Enzo Ferrari Mauro Raccanello